Grazie a tutti. 10-10-41. Allora sono da 34 anni in carcere. Bene, adesso deve rispondere alle domande che le farà l'Avvocato Taormina che è difensore. Sì, ma le volevo prima dire, signor Presidente, che chiedo scusa. Dica. Io sto malissimo, sono due notti che non ho dormito, nonostante le sue disposizioni di andare davanti e ritorno. Mi hanno portato perfino a Salerno, mi hanno appoggiato qui a Spoleto. Se gentilmente lei dopo mi fa andare subito. Senza dubbio, senza dubbio. Perché lì mi posso curare e poi lì mi deciso. Lei tornerà subito al luogo di provenienza. Perdo anche il colloquio di mensilio di mia moglie comunque. Lei tornerà subito, finita la sua deposizione, tornerà subito al luogo di provenienza. Grazie, signor Presidente. Questo è stato già disposto. Allora, prego, Avvocato Taormina. Signor Cudolo, lei sa che è stato da noi citato con riferimento ad alcune dichiarazioni che lei ha reso non una ma due volte in ordine all'uccisione di Vino Pecorelli avvenuta il 20 marzo del 1979. E su questo punto vorremmo poi specificamente interrogarla. Ma prima, proprio ai fini dell'inquadramento dell'episodio che qui ci interessa nel contesto generale, devo fare domande preliminari. E la prima è questa. Lei può dire se vi fossero rapporti tra la nuova camorra organizzata e l'andranghe da Calabrese? Sì, ci sono stati. Però solo con la famiglia di Stefano. Comunque io le voglio dire che confermiamo però l'ultima deposizione integralmente che ho fatto al PM, che viene a derogarmi a Belluno. Le altre... c'è un po' di confusione comunque. Sì, va bene, ma comunque a quella poi verremo. Però siccome la Corte non conosce nulla, dobbiamo ricominciare da Calabrese. Ecco, allora mi può dire di questi rapporti tra la nuova camorra e quindi è soltanto la... La nuova camorra, la NCO, gentilmente. Vabbè, dite come volete comunque. Perché c'è differenza tra l'NCO e la nuova camorra organizzata? Ebbè l'hanno scettito ingerente la nuova camorra organizzata. La NCO era nata con una rivoluzione, diciamolo così, comunque. Poi è diventata, dopo il mio isolamento all'Asinale, per i fatti ben noti dalla loro Presidente Bertini, è diventata anche la camorra una bestia senza cuore, comunque. È diventata la camorra anche la NCO, ecco. Ho capito. Ecco, quindi allora lei quando si riferisce ai rapporti tra la NCO e l'Andrangheta Calabrese, anche se poi soltanto con De Stefano, si riferisce a questo tipo di rapporti? Cioè a quello che vedeva la NCO nei termini che lei adesso... Sì, ma il rapporto, perché io l'ho conosciuto in carcere tanti anni fa, Paolo Di Stefano, e poi ci siamo incontrati nella mia alla ritanza quando è successo il fatto di Aversa, comunque. Ecco, quindi erano rapporti personali tra lei e De Stefano chi? Paolo o Giorgio? Paolo. Giorgio l'ha conosciuto? Giorgio... Giorgio, il cugino di Paolo? Non so se l'ho intravisto in un colloquio... L'avvocato, ma la devo dire? No, l'avvocato no, Giorgio il cugino... No, 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 cioè era stato ammazzato. Ho capito. Ecco, voglio sapere, il rapporto era tra, diciamo, le persone che facevano capo a lei e quelle che facevano capo a Paolo Di Stefano, o era un rapporto personale tra lei e Paolo Di Stefano? Avete fatto affare insieme, avete assunto iniziativa insieme di qualche genere? No, no. Né all'interno delle carceri? Ci abbiamo scambiato qualche arma, qualche cosa. Ho capito. Senta, attraverso questi suoi rapporti, quindi lei soltanto con Paolo Di Stefano ha trattato? Sì, solo con Paolo Di Stefano. Con nessun altro? Con Paolo Di Stefano. Ho capito. E quei due o tre che stavano con lui, mi ricordo un certo Pasquale Condella, nessun altro, due o tre che stavano con lui, non so come si chiamava a serra. Ho capito. Vi vedevate in Calabria o... In Calabria e anche in Campania. Anche. Senta, per quelli che sono state le sue consapevolezze nell'ambito di questo rapporto con Paolo Di Stefano, lei ha mai potuto sapere se vi fossero dei collegamenti tra l'Andrangheta Calabrese o comunque la Cosca Di Stefano? Di Stefano, se abbiamo stabilito la Cosca Di Stefano. La Cosca Di Stefano e personaggi della criminalità romana, diciamo così genericamente. Diciamo, parliamo della banda della Magliana. Ecco, io non so se lei... La conosco benissimo. No, che credo io no. C'erano rapporti di solidarietà tra... se non con la banda... Ma forse per quell'episodio miglio, che io l'ho mandato da Di Stefano per una pistola, comunque. Di questo poi parlerebbe, ma più in generale, lei non è a conoscenza dell'esistenza di rapporti? No, rapporti stretti no. Ecco. Lei quando parla di banda della Magliana che intende? Il gruppo che si faceva parte della Magliana e Capovico aveva più capi, comunque, no? Quelli che stavano incollogati con me erano Nicolino Selis, che era il mio capozono a Roma. E Nicolino Selis con chi stava nella banda della Magliana? Era uno dei capi. Era uno dei capi. E Giuseppe... Me lo deve fare scusare, sono passati tanti anni. E Giuseppe Giuseppuccio, sempre che si lo chiamavano in negro. Lei ha conosciuto Giuseppuccio? Personalmente. Poi dopo ne parleremo. Ecco, tra queste persone, ad esempio, lei ha conosciuto altre persone della banda della Magliana o no? Che venivano con questi qui, sì, ma comunque Nicolino Selis era il mio referente, diciamo così. E Casillo che c'entrava con la banda della Magliana? Teneva rapporti con la banda della Magliana? Casillo, diciamo, quando non c'era io rappresentava me. Ecco. Purtroppo, allora... Ecco, e Casillo le ha mai detto di rapporti della banda della Magliana con alcuni della Cosca de Stefano? Vedete, non glielo posso confermare, ma Casillo è stato sempre a Roma, può darsi anche... Però a lei non lo ha detto. No. Va bene. Ecco, per quello che... riguarda invece i rapporti della NCO con la banda della Magliana, diceva adesso, li teneva Nicolino Selis, per lei. Sì, ma non i rapporti, era un mio capozono a Roma. Che significa? Può spiegare per questo signore? Era quello che comandava per conto mio su Roma, diciamo così. Ah, quindi non era un'appartenenza, era una... Sì, sì, era proprio il mio capozono, nonostante che fosse uno dei capi della Magliana. Cioè, chiedo scusa, Nicolino Selis era una persona che faceva parte... Si è sganciato dalla banda della Magliana. Diciamo noi di me che era uno segreto, che era un mio capo a Roma segreto. Ho capito. Ma si era sganciato dalla banda della Magliana? No, 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 era sempre uno dei capi. Era un'altra persona che, nonostante fosse della banda della Magliana, tuttavia rispondeva a lei. Sì, sì, rispondeva a me. Non so se lui l'aveva detto anche ai suoi, al suo gruppo, diciamolo sì. Oh, e invece Casillo che cosa curava nei rapporti con la banda della Magliana rispetto alla nuova camora organizzata? Purtroppo tutto comunque... Sì, ma voglio dire, per esempio, nel ruolo... Ma sempre con Nicolino Selis, però lo voglio specificare, e un po' con Giuseppuccio, quello che chiamavano il negro, se non sbaglio comunque. Ah, quindi insomma era sempre lo stesso tipo di collegamento, non c'erano altre strade. Senta, attraverso Selis o attraverso Casillo, Lei ha mai saputo dell'esistenza di rapporti tra la banda della Magliana e servizi segreti istituzionali o deviati? Le chiedo scusa, parla di Enzo Casillo. Dico, attraverso Enzo Casillo o attraverso... Ma io lo chiedo personalmente comunque, chiamiamolo sempre deviato, poi io non so se sono deviato a me. Ma ecco, io vorrei sapere... Lei sa bene la vicenda di Cirilla, comunque, io mi trovo isolato da 16 anni, e ho fatto liberare un uomo dello Stato, comunque. Lo sa bene quello che è successo, comunque. Le chiedo... Quindi Enzo Casillo ha incominciato a prendere rapporto con questi servizi segreti deviati, come li chiama lei, quando è successo il fatto Cirilli, che rapirono a Napoli, e venivano da me tanti personaggi ad Ascoli, e io mi feci portare anche Enzo Casillo, comunque, che era la di tante, e lo facevano entrare con un tesserino dei servizi segreti, come colonnello, come maggiore, non lo so, a parlare con me, comunque. Quindi da allora ha preso contatto con i servizi segreti. Casillo, ecco, ma io la mia domanda era un'altra. La chiedo scusa. No, no, prego. Dico, da Nicolino Selis, o da Enzo Casillo, lei ha mai saputo se la banda della Magliana, o alcune persone della banda della Magliana, avesse rapporti con i servizi. Da Nicolino Selis, ci puoi dire con precisione, secondo il suo ricordo, quello che lo disse? Questi rapporti, ma maggiormente i rapporti con Pecorelli, con questo Pecorelli che è morto, come si chiama? Nino Pecorelli. Con questo qui, perché dice che questo Nino Pecorelli stava... Ma perché Selis le ha detto che Pecorelli era uomo dei servizi? Insomma, non è dei servizi, la spiega, che a Nino Pecorelli in sostanza stava in conflitto con questi della banda della Magliana, però allo stesso tempo, dicevo, tutta il generale della Chiesa, andavano a fare anche perfino perquisizioni nelle carceri. Ecco, senta, questo verremo dopo. Io la domanda mia è ancora più preliminare, per così dire. Cioè, Selis le ha detto se alcuni componenti o qualche componente della banda della Magliana fosse legato o in collegamento con i servizi? Sì, c'erano comunque. C'erano tanto perché, le posso citare un episodio, l'ultima volta che ho visto Selis è stato due giorni, due giorni che purtroppo è stato ammazzato da quel grande statista che era Moro, e mi disse, perché lui abitava quasi vicino a Via Mondalcini, comunque, e mi disse che sapeva dove era comunque, Moro comunque. Disse Selis? Sì. E l'ho spiegato in altra sede, comunque. Sì. Ecco, e ha fatto riferimento a persone della banda della Magliana, nomi e cognomi, che avevano rapporti con servizi istituzionali o degli altri. Con i servizi? Nomi e cognomi di questi servizi? No, nomi e cognomi dei personaggi appartenenti alla banda della Magliana, che avevano rapporti con i servizi. No, genericamente, avvocato. Ma è Giuseppucci, vi ripeto, voi parlate sempre di Giuseppucci e di Selis, comunque. Ecco, senta, un'altra cosa. E lei di rapporti tra la cosca di Stefano e i servizi, ha mai saputo? Ma cosa c'era, avvocato? Può dire quello che risulta? E' quello che mi diceva Paolo, da lui disponeva di questi apparati dello Stato, comunque, chiamiamoli deviati. Allora, io le faccio una domanda precisa. Paolo di Stefano, per quello... Sì, ma quello è sempre, vedete, è sempre un'altra cosa assurda, che io devo parlare dei morti, comunque. Purtroppo, questa è la realtà. No, che poi non ci sono riscontri, non vorrei che io direi delle menzogne. No, ma guardi, che le cose che sta dicendo lei già sono state dette da altri. Non lo so, io sono 16 anni che sono totalmente isolato. Noi dovremmo sentire una persona qui che potrà confermare o smentire quello che lei sta dicendo. Ma ecco, tornando al problema dei rapporti tra servizi e Paolo De Stefano, Cosca De Stefano. Sì. Paolo De Stefano, direttamente... Mi ha sempre detto che lui disponeva di queste forze a Roma, comunque. Ecco, disponeva in che senso disponeva? Si cambiavano favore, crede, comunque. Ho capito. Questo me l'ha detto di certo, che si cambiavano favore, comunque. Ho capito. Senta... Ma vi parlo sempre di Paolo De Stefano, uno dell'avvocato De Stefano. Paolo, Paolo, Paolo. Paolo. Senta, veniamo più specificamente a Nicolino Seris. Dunque, diceva, lei l'ha conosciuto molti anni fa. Sì. Quando l'ha conosciuto? Settanta... Credo settantaquattro, quando fui mandato a via da San De Stefano a... a Poggio Reale, comunque, credo, settantatré, settantadue, dal settantadue a settantquattro, avvocato, comunque. Poi ci siamo rivisti ad Aversa. Dove vi siete conosciuti? In carcere? A Poggio Reale. Io venivo da San De Stefano, dal manicomio di San De Stefano, mi hanno appoggiato a Poggio Reale. Sarebbe, come si dice, all'infermeria, all'infermeria. Lui non so da dove venivo. Poi ci siamo rivisti ad Aversa, poi lui partì ad Aversa, e io mi allontanai. Scusate che dico mi allontanai, perché sono stato assolto, comunque, evasi, comunque, se vi fa piacere così, comunque. Senta, quindi, questo, questo, questo Selis, abbiamo detto, era sostanzialmente l'elemento di raccordo tra lei e la banda della Magliana. Ma io ho sentito da qualcuno che dice che Selis non era importante nella banda della Magliana, era uno dei capi della banda della Magliana. Senta, Selis, le ha mai parlato di un certo Antonio Mancini? Sì, credo di sì. In che termini viene a parlare? Potrebbe essere anche che l'ha portato qualche volta presso a lui, perché io avevo, quando ero latitando, stavo qui, come si chiama, vicino a Roma, a Fiuggi, l'ha portato a volte anche tre o quattro presso a lui, potrebbe essere anche che l'ha portato qualche volta, non lo so. Però non la ricordo preciso. No, 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 però questo Mancini non me è nulla. Ho capito. Senta, ecco, questo colloquio lei ha già riferito, io le faccio la domanda, comunque, di un colloquio che lei avrebbe avuto una quindicina di giorni prima dell'omicidio pecorelli, come abbiamo detto, avvenuto il 20 marzo del 79. Dove lo avete avuto? Non vi posso dire 20 giorni prima, un mese prima, qualche tempo prima. Certamente prima, comunque, un mese, due mesi, quindici giorni. Ho capito. Dove lo avete avuto? Ad Albanella. Dove? Albanella, una provincia nel Cilento, nel Salernitano, dove stavo io l'avevo nascosto, comunque, che venivo da Brescia, io comunque ci siamo incontrati, perché sembra che lui aveva avuto un... ma no, non era la prima volta che ci siamo incontrati, lui aveva dei permessi premi dal manicomio, comunque, e ci incontravamo. O io ho da Luca un appartamento qui a Roma, o lui da me, comunque. Lui venne specificamente da me, lui soltanto, però, quando lui veniva da me, lui soltanto, comunque, sarebbe da me, nel rifugio, diciamo, ad Albanella. Lo chiamava lei o veniva spontaneamente? Spontaneamente, a volte lo chiamavo io per sapere, cioè, stavano in contatto, comunque. Mi chiese una pistola, perché diceva che doveva ammazzare un giornalista, mi disse, con lo silenziatore. Io non ce l'avevo, disse, rivolgi da Roma, perché Enzo Casillo, anche lui era, sembra la titante, ma per poche cose, rivolgi da Enzo, se non ce l'ha lui, te la fai dare a Paolo di Sede, un punto è bassa, comunque. Quindi lei gli indicò Enzo Casillo perché Enzo Casillo facesse da tramite rispetto a Paolo Di Stefano? Sì, giusto. E chi sarebbe dovuto andare da Paolo Di Stefano? Era lo stesso, o Enzo, o lo stesso Selis, comunque. O Enzo, o Enzo Casillo, o... Poiché Paolo, me l'aveva detto, Paolo Di Stefano, che se aveva bisogno di queste armi, lui ce le aveva io, comunque. Era accaduto già altre volte? Sì, mi aveva mandato delle armi, non ho capito. Ecco, e in quella occasione il Selis le disse per conto di chi agiva? Per conto proprio, per conto loro, diciamo. Cioè loro che significa? Lui ha detto, disse proprio per loro, perché io volevo sapere maggiormente se era un favore che facevano, diciamo, alla mafia, comunque. Lui disse no, nessun favore alla mafia, comunque, un fatto nostro personale, perché, la ripeto, sempre quello che disse... Nostro personale, mi scusi se la interrompo, personale loro, diceva loro, del suo gruppo, non lo so, del suo gruppo, tutta la banda, lo so, perché Pecorella, le ripeto, dice che stava in combutto con loro, però, nello stesso tempo, riferiva tutto al generale della chiesa e andava perfino a fare perquisizione in carcere. Cosa che vi posso confermare anche a Cuneo, dopo ci sono stato a Cuneo, dopo riprese, lo dicevano tutti lì a Cuneo, questo giornalista, che entrava col generale nel carcere di Cuneo. Senta, lei diceva adesso, io gli ho domandato, se l'uccisione di questo giornalista, lei fece il nome del giornalista? Sì, Nino Pecorelli. La prima volta no, la prima volta, perché è stato qualche mese prima, non 15 giorni, come ha detto lei, la seconda volta, Nino Pecorelli, punto e basta, la seconda volta, quando ne avete parlato, ancora prima che morisse Pecorelli? Sì, sempre prima che morisse. Sempre prima. Quindi due volte prima che morisse. Ecco, lei, nel secondo momento, mi spiego proprio il fatto di questa, che lui stava in computto, questo giornalista con loro e poi con... quindi la motivazione di la data dopo. Sì. Però voglio dire... Non dopo morto. No, prima della morte, ma la seconda volta. Sì, sì. Ecco, ma le chiedo, perché lei ha chiesto a Selis se si trattasse di un omicidio che volevano fare per motivi di mafia? O per... Lo spiego sempre, perché non è per offendere nessuno, comunque. La NCO in Campania ha sempre combattuto contro la mafia, comunque. Ecco il discorso che viene anche su un altro fatto, che è già pocato. contro la mafia, contro, diciamo, Rino e la mafia, comunque, in Campania, comunque, perché stavamo in Campania, allora stavo io, comunque. Ecco perché io dissi quella frase al PM, che non è stata scritta, comunque. Nel senso, io volevo dire, portare un paragono, se Rino e la mafia erano protette dal senatore, il presidente Andreotto, io lo dovevo sapere per forza, perché sapere chi stava dietro alle spalle. che proteggeva a questi qui, che io, ci combattevamo, comunque. Al che il PM mi disse, dice, ma le stasera, dice, come mai, vuole difendere così, accanitamente, Andreotto, comunque. C'è te l'era simpatica, Andreotto, che lo voleva difendere tanto. Aspetta, poi ci veniamo dopo. Ecco, io vorrei capire, vorrei capire, quindi la ragione per la quale lei chiede a Nicolino Selis, se per caso l'omicidio di, l'incisione di Pecorelli fosse per motivi di mafia, è che lei in quel caso sarebbe stato contrario. Contrario è tassativamente, Nicolino non l'avrebbe mai fatto, comunque, perché era uno dei miei, comunque. Ho capito. Tassativamente non c'entrava proprio la mafia, comunque. Ecco. E si chiamava così. E la risposta invece fu che si trattava di un omicidio voluto da loro? Voluto da loro, perché, vi ripeto, proprio mi disse che è stato in combutta con loro, però allo stesso tempo diceva tutto il generale della, la povera generale della chiesa. Le ha spiegato perché, per che cosa Pecorelli sarebbe stato in combutta con loro? Lo sapete, tanti giornalisti stanno in combutta con la malavita, per sapere dei fatti, per fare dei scopi, eccetera, eccetera, comunque, o poi, poi non ho approfondito. E ha fatto riferimento a qualche iniziativa di Pecorelli, che era dispiaciuta a loro, iniziativa giornalistica si intende, so che Pecorelli aveva pubblicato qualche articolo contro di loro? Sì, stavano un po' dispiaciute perché questo giornalista, vi ripeto, diceva tutta della chiesa, poi ha fatto delle cose anche contro di loro, logicamente. Come giornale. Anche come giornale, come rivista. Ecco, va bene. Senta, stava dicendo che parlava lì, parlava della sua, come dire, posizione di favore nei confronti di Andreotti. Che cosa stava dicendo prima? vedete l'avvocato, senza offesa per tanta PM che stanno in Italia, purtroppo la maggior parte non vogliono la verità vera, vogliono dei jukebox, a quale ci mettono la monetina dentro per sentire soltanto quello che fa comodo all'ora. e io non ho voluto mai stare a questo gioco. Penso che è notorio che anche al 94 volerano portarmi in una villa a me e mia moglie, senza che io avevo detto niente, e io ho rifiutato. meglio morire tra la sbarra e cancello. Lo ripeto, sto già da 34 anni in carcere, da 16 isolato per aver salvato un uomo dello Stato. Vi ripeto, però vi ripeto questa domanda, forse il PM l'ha detta anche in buona fede, nel senso che... Sicuramente. No, sicuramente si sono d'accordo con lei, perché nel senso che io prendevo la difesa di Andreotti, chiedo scusa, del Presidente Andreotti, dicendo che se Andreotti è stato dietro al signor Riine e alla mafia, io, capo dell'ex NCO, lo dovevo sapere per forza come il signor Riine poteva sapere chi proteggeva me, politicamente, E lui mi disse, dice, ma allora la frase esatta, aspettate, mi ricordo la frase esatta, ma è così, insomma, simpatico il Presidente Andreotti, che non lo difenda tanto, non lo vuole accusare, insomma, una cosa di queste, è passata tanto tempo, questo fu, anche io lo metto per iscritti, dice, no, io ho fatto una battuta, e finito così, ma sono convinto, le ripeto, l'ho detto in buona fede, non come a tanti altri PM che volevano i 509, di politici, eccetera, eccetera. Comunque, di questo problema, di questa questione, con Nicolino Selis, lei non ha parlato, con Selis, lei ne ha parlato soltanto dell'arma che lui voleva. Ma non so nemmeno, non so nemmeno, se l'ha andato a prendere o non l'ha andato a prendere, l'arma comunque, per essere ancora più sicuro, mi incontrai dopo l'omicidio, e il mio modo di incontrare, sembra, qui a Civitaretti, che c'è un, Sebastianella, se non sbaglio, si chiama, un ristorante, una cosa di messa, incontrai a Giuseppe Pucci, e anche Giuseppe Pucci, sarebbe, l'ho detto prima, gli amavano il, il negro, il negro, il negro, perché anche lui era uno dei capi della banda della Magnana, mi scusi signor Cudolo, era molto, conosceva Giuseppe Pucci, Sì, sì, anche era da molto tempo, da molto tempo, dove aveva conosciuto? A Re Bibbia, Ah, in carcere, ecco, quindi, in questo, non ricordo con precisione, c'era Re Bibbia fuori comunque, ci siamo rilevisti, però una volta, a Re Bibbia comunque, e questa che era, una cena, un pranzo, c'era un pranzo, con tanti amici comunque, Nicolino Seristo non c'era, non c'era Seristo, ricorda che c'era? Comunque c'era, Enzo Casillo, purtroppo, vi ripeto, dobbiamo parlare dei morti, stavano questi Giuseppe Pucci, con altri di suoi, comunque, anche io mi appartaglio, Dei suoi c'era solo Enzo Casillo? Dei miei, dai miei sì, diciamo solo Enzo Casillo. Rosanova non c'era? Come no, non c'era, ma ripeto, mi fate dire tutto il nome dei morti, comunque, ecco, quello è il punto, c'era, c'era e come Rosanova, comunque, e ci siamo appartati proprio io, Giuseppe Puccio, e Alfonso Rosanovo, ho capito, che io sono stato, tra l'altro, imputato, che dice, l'avevo fatto ammazzare io, a Rosanovo, invece, ho poi, i signori penditi, questo Carmine Alfieri, da loro invece sono stati assolti, si dice che sono stati, sempre questi famosi, servizi deviati, come Enzo Casillo, eccetera, eccetera. Ecco, allora, incontra Giseppe Pucci, e parlate di che cosa? Quindi, non mi dice, ma partatelo, perché io volevo sapere, con più precisione, se era vero, del perché della morte, di questo, di pecoretti, dopo quanto tempo dalla morte? Ma credo, poco, una settimana, perché poi, dopo ho visto, di un assalisto, due giorni, prima che mi arrestavano a me, no, no, prima che, fu trovato morto, lo statista Moro, Giseppe Pucci, dopo una settimana, due settimane, comunque, lui mi confermò, che l'avevano fatta, per cose loro. Ecco, ecco, io volevo una conferma, anche da Giseppe Pucci. Mi scusi, Giseppe Pucci, perché poteva darle la conferma? Perché anche lui, era uno che comandava molto, era un cavo anche lui, della banda della Magliana, e c'era un gruppo, forte. Ecco, lei si ricorda il discorso, come si svolse, tra lei e Giseppe Pucci? Sì, gli chiesi cortesemente, se Nicolini mi aveva detto, se ha detto la verità, e lui mi confermò, che era stato un fatto, loro, personalmente. Le disse chi aveva materialmente, ucciso Pecorelli? Non me l'ha mai detto, se non avrei nessuna, niente, lo direi comunque. Ecco, e ricorda, se in questa circostanza, siete tornati, sulle, sulle ragioni, della uccisione di Pecorelli? No, ma credo, non tanto, a me mi interessava, solo la conferma, se Nicolini, mi aveva detto la verità o no, perché era un uomo proprio miglio, invece, mentre, 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 sarebbe Selyse, mentre Giseppe Pucci no, era solo uno dei capi della Miami. Ecco, senta, ricorda, se nell'occasione, del colloquio, con Giseppe Pucci, parlaste, ancora una volta, della, della questione mafia, come motivo, della, della uccisione? Sì, e io volevo sapere, se per caso, non è fatto un favore, sempre un favore alla mafia, se Nicolini mi aveva detto, aveva detto la verità, lui disse, tassativamente di no. Quindi ha avuto la conferma? Sì, era una cosa allora, disse. Ecco, io le leggo, soltanto per memoria, il verbale, delle sue dichiarazioni, rese a Belluno, il 21 maggio del 96, al, al pubblico ministero, no, no, anzi, al dottor Cannevale, sì, esatto, dove, lei dice, parlai dell'omicidio pecorei, dopo che era già stato commesso, con Franco Giuseppucci, Giuseppucci era mio amico, ed amico intimo di Selis, sì, ma non era mio capozona, né mio affiliato, sì, sapevo che Giuseppucci aveva rapporti anche con la mafia, sì, ma nel senso perché Giuseppucci aveva rapporto con tutti, con me, con altri, con un'altra organizzazione, con tutte le organizzazioni d'Italia, ho capito, però lei lo sapeva come notizia generale, o sa di fatti specifici, no, perché faceva delle rapine, e basta, ho capito, e altri componenti della mia vita organizzata, infatti, poiché la mia organizzazione era avversaria alla mafia, ma non avversaria, ci combattevamo in Campania, comunque non basta, ero interessato a sapere se anche la mafia fosse implicata nel omicidio, e comunque se tale omicidio fosse stato fatto per fare un favore anche alla mafia, chiesi questo a Giuseppucci, e lui, pur confermando le motivazioni che mi aveva detto Selis, alla mia insistenza sulla implicazione della mafia, così sta scritto qua, tentè no, no, non ha quindi confermato, proseguire, no, 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 io vi dico, grazie a scusa, non ha quindi confermato esplicitamente, che l'omicidio era stato commesso, anche per fare un favore alla mafia, anche se l'ha fatto capire, su mia insistenza, grazie a signor Avvocato, Giuseppucci mi ha detto testualmente, che era un fatto loro, la stessa motivazione di Selis, dicendo che questo giornalista, perché andeva a dirsi da loro, però poi le passava a generare della Chiesa, e perché andava facendo le perquisizioni in carcere, assieme al generale della Chiesa, nient'altro, ecco, però, da questo verbale, eh, vabbè, risulta una tanta cosa, da questo verbale risulta, perché parecchi noi imputati, ci fidiamo, no, allora se scrivono, uno mette la firma senza leggere, ma non esiste proprio, da questa frase che io le ho letto, risulterebbe che... Che lui tende no, non è vero. No, 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 qui c'è stata una cosa, una cosa prettamente all'ora, comunque, mi confermò che Nicolino mi aveva detto la verità, Nicolino Selis. Ecco, il Pubblico Ministero incalza su questo punto, e dice, qual è stata la ragione di questa sua domanda a Giuseppucci, aveva dubbi su quanto le aveva detto Selis, come mai ha sentito la necessità di chiedere a Giuseppucci se l'omicidio era stato fatto anche nell'interesse della mafia? E lei risponde, l'omicidio aveva fatto scalpore, e i giornali avevano parlato anche della mafia, anzi mi correggo, il motivo della mia richiesta era che Giuseppucci aveva rapporti con la mafia, intendo far presente spontaneamente, che se l'omicidio fosse stato fatto per fare un favore ad Andreotti, Selis avrebbe avuto l'obbligo di dirlo. Sì, se no, se no, veniva ammazzata da noi. Ho capito. Ma vi spiego, vedete, in questo colloquio, con questo pubblico ministero, comunque, sono state dette tante cose, comunque, no? Ma non ci sono scritte, comunque. Beh, diciamole qui, tante cose nel fatto del presidente Andreotti, perché il signor giudice non mi hanno mai domandato, io non so niente, quindi si è parlato soltanto di Andreotti, del presidente Andreotti, io insistevo, insomma, perché per me lo dovevo sapere per forza se il presidente Andreotti proteggeva Rino o con la mafia, comunque. l'è stato chiesto questo? Se lei fosse a conoscenza dei rapporti di Andreotti con la mafia? L'ho detto io. Ah, l'ha detto lei spontaneamente. se fosse vero che proteggeva la mafia, la signorina e la mafia, io l'avrei saputo senza, lo dovevo sapere, comunque, sapere che io ci combattevo con loro, lo dovevo sapere. Ok. Senta, qui mi fece la domanda il PM che dice che fece una battuta. Cioè? Il fatto che disse che mi era così simpatico. Era simpatico. Senta, per essere chiari, quindi, io rileggo il passo. Io non l'ho mai conosciuto al presidente Andreotti, comunque, quello che mi risolva perché è un grande statista, in realtà. Ok. Senta, io le rileggo il passo perché per noi è importante. Chiesi questo a Giuseppucci e lui, pur confermando le motivazioni che mi aveva dato Selis, alla mia insistenza sull'implicazione della mafia, tentennò. Non ha quindi confermato esplicitamente che l'omicidio era stato commesso anche per fare un paura alla mafia, anche se l'ha fatto capire, su mia insistenza. Questa frase non è sua. No, 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 no. Allora ci dovevano stare scritte tante altre cose. Questa frase non è sua. No, no, no. Non tenterò per niente, mi confermò quello che aveva detto Selis, perché lui sapeva bene che Selis stava con me. Va bene. Presidente, per noi può bastare. Prego. Il pubblico ministero, prego. Ah, l'avvocato Biffani. Senta, signor Futuro. Lei, Selis, le disse mai di rapporti propri, di Selis con Semerari, con il professor Semerari? Vedete, io con il professor Semerari, comunque, l'avevo messo come mio perito, però un mese prima, un mese prima che dovevano farmi una perissia del Bibbio, lo tolsi, perché mi ricordo proprio che gli fece una battuta, gli fece una battuta, diceva, voi vi vedete con le manette, comunque, e lo tolsi un mese prima, quindi quello che va dicendo, il signor Pendita Ammatura dice, delle fesserie, comunque, perché non mi ha fatto mai nessuna perizia, l'ho tolto prima a Semerari. Leggliete scuso, però non ho divagato, non ho risposto. Non ho capito la risposta a un'altra cosa. No, no, ho divagato. Un altro perito. Sì. No, 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 di Semerari, no, ho parlato di Semerari. Ha parlato di Semerari? Sì, di Semerari. No, con Giuseppucci forse ce l'aveva. Ecco, esattamente. Mi vuol dire, sì, mi vuol dire che rapporti, per quanto lei ricorda, vi fossero tra Semerari e Giuseppucci? Nel senso che lo mettevano sempre come perito di parte, comunque. Ma quelli a Semerari, comunque, era un grande professionista, ma era più pazzo di me, comunque. Senta, le leggo, le leggo, le leggo quello che risulta al verbale del 21 maggio del 96 alla casa di reclusione di Belluno dinanzi al pubblico ministero di Perugia. Dice, Giuseppucci l'ho conosciuto tramite Semerari, credo in epoca 1976. Può darsi, può darsi nel senso che il Semerari me l'avevo segnalato. Ripeto, io l'avevo, ecco, ecco il fatto di prima, io l'avevo nominato come perito, come psichiatra, doveva espedare una perizia a Roma, però un mese prima che dovevano, insomma, un mese prima che lo arrestavano, ecco, parliamoci diare, comunque, lo tolsi, per me, non vi voglio come perito perché vi vedevo le manette, perché la sapevo le sue idee. Ho capito. Quindi lei conferma che la conoscenza di Giuseppucci fu una conoscenza carcerale. Sì, è perciò forse proprio in quel periodo lui mi ha detto, no, carcerale è anche fuori comunque. Sì, sì, ma inizialmente, leggo sempre da questo verbale. Sì, perché me ne aveva parlato dal professor Semerari, sì. Esatto, che lei dice lo conobbi, lo sarebbe Giuseppucci, conobbi Giuseppucci al carcere di Napoli nel periodo 1985-76. No, a Salisse. Guardi, qui nel verbale è scritto. Hanno sbagliato, a Salisse, a Napoli, a Roma ho conosciuto la parola Giuseppucci. No, esatto. Guarda, le uniche persone che conoscevo benissimo della banda della Magliana erano Salisse e Giuseppucci. No, ma no, ma no, però Giuseppucci l'ho conosciuto al carcere di Roma, forse in un colloquio che siamo andati a fare proprio con il professor Semerari. Ho capito, ho capito. Quindi, quando si riferisce invece a Salisse, è Salisse a Napoli, che ha conosciuto al carcere di Napoli nel 75-76. Sì, quando sono stato appoggiato lì dopo San Deo. in questi colloqui che lei ebbe prima e dopo l'omicidio con Salisse e poi con Giuseppucci, lei fu mai fatto cenno a rapporti di questo giornalista, cioè del giornalista Mino Pecorelli con il professor Semerari? No, che io ricordo o no? D'accordo, però. mi sono saltate due cose brevissime. Senta, lei sa altre cose sull'omicidio Pecorelli? Quello che ho letto su qualche giornale, non so niente. Ecco, perché... Ripeto, io vi posso confermare che all'80-81 sono stato a Cuneo e tutti i brigatisti, carcerati, dicevano all'80, come dicevano che a questo Pecorelli andavo con il generale a fare le perquisizioni lì a Cuneo. Ecco, senta, signor Cutolo, le dico questo perché... No, l'ho saputo, però prima andavo, è normale. Ecco, le dico questo perché, e questa potrebbe essere l'occasione per farlo, perché lei conclude l'esame, l'interrogatorio, l'audizione che fu fatta dal Pubblico Ministero, della quale anche adesso se l'è stato ricordato un brano, dicendo che... Ma quello non fu registrato, perché era bene se fosse stato registrato. Dicendo che lei è a conoscenza di molte cose su tanti misteri italiani e che se parlasse lei scorrerebbe tanto sangue. No, no, sì, sì, è normale che io so tutto, tante cose. Ecco, allora siccome Pecorelli per noi resta un mistero italiano... Ma è meglio che i misteri restano nella mente segreta dei miei pensieri, decisi di morire tra i barri e cancello e mi sa bene questo. Le chiedo, ma tra questi misteri in ordine ai quali lei sa cose, c'è anche l'omicidio Pecorelli? No. No. Sì o no? Ma potrà essere che ci sono comunque, perché poi, sono 34 anni che sono in carcere. Comunque non intende dire altro. No. Vabbè. non c'è niente da dire su questo fatto. Perché questo è un altro fatto strano che mi hanno sempre appoggiato direttamente ad altri carceri e questa volta mi hanno fatto andare così. Non lo so, non so che il signor Presidente aveva fatto la disposizione e sono andato a ritorno. Lei parla sempre della disposizione. mi hanno fatto andare per fine a Sarelle. Questo è un altro fatto strano. Cioè stava dicendo che ravvisa stranissimo. Sì, ravvisa tante cose. Le migliori cose sono quelle che non si dicono. Mi ripeto, mai io volevo essere appoggiato per dire altri carceri vicino alla Campania. Non mi hanno mai appoggiato, mi hanno mandato a Sarelle direttamente, a Genova direttamente, all'altra parte direttamente. Qui che è più vicino potevano venire direttamente, adesso me ne andava a Belluno, mi potevo curare. Invece mi hanno appoggiato in una sezione qui a Spoleto dove stanno tanti altri detenuti. Anche pentiti? Anche pentiti? Non lo so, perché ne so io. No, no, penso di no comunque. Tra l'altro sono solo 16 anni che sono isolato perché io il 41 bis non c'è volta che hanno ammazzato a Falcone comunque. Il signor Bruccio che sta fuori che ha ammazzato a Falcone che è... Invece c'è volta 16 anni il 41 bis quando non ero in ricordo quando ero andato alla sera. Comunque, signor Cudolo, lei sappia che la corte aveva disposto la traduzione di Nettria e Aula. Sì, noi avevamo disposto comunque è un problema che adesso... Non l'hanno fatto, è strano. Lo so, ma ci sono... È strano, è strano. È molto strano. Adesso non dobbiamo parlare di questo. Forse non volevo non farmi venire. Non è facile, forse non è facile fare... No, no, non è più. Va beh, adesso ripeto, non parliamo di questo. La parola al Pubblico Ministero per... Contro il interrogatorio, prego. Lei aveva cominciato le sue risposte dicendo che avrebbe confermato soltanto le ultime dichiarazioni rese al Pubblico Ministero, almeno alcune dichiarazioni rese al Pubblico Ministero, e non anche altre. Sì, le spiego perché, il signor Pubblico Ministero, perché sembra l'altra dipossessione l'ho fatta a 94, e veniva... Mi tenero a Carinolo a Carinolo quattro mesi, perciò ho pensato quest'altro fatto strano, mi tenero a Carinolo qua, mi hanno tenuto quattro mesi, e mi hanno proprio fatto una tirannia sulla mente per quattro mesi, tanto a PM italiana, perciò vi ho detto il fatto di più poco, senza offendere nessuno, no, no, che... Quindi mi hanno fatto una mente per farmi rivelare, per farmi rivelare penditi, mi hanno scarcerato, mi hanno scarcerato, il giorno 8 marzo del 94, mi hanno fatto la scarcerazione per portarmi una villa nel salernità, e ho detto di no, io avevo trovato il giudice greco, le chiedo scuse che faccio sapere, il giudice greco, volevo dire la mia verità, senza avere nessun privilegio, non so se... se ne ho detto, la mia verità, perché ho detto abbastanza la mia vita passata da 16 anni, che mi crede, non mi crede, non mi interessa, Quindi, ecco perché forse c'è qualche altra cosa adesso cerchiamo. Comunque, voglio dire, è normale che quando si fanno delle domande, anche oggi... Ripeto, per il 1000 PM, uno mi ha detto fammi arrestare 500 persone, uno mi ha detto parlano di tutti i politici, uno mi ha detto parlano dei giudici, adesso rispondo alle domande, quando si fanno domande si cerca di sapere quello che una persona sa, poi lo si controlla, anche oggi, lo si dovrebbe essere, lo si dovrebbe essere. Le domande alle quali ho risposto prima era quello di vedere se lei sapeva altre cose, che è perfettamente normale. Comunque, vediamo un pochettino di orientarci su questo. Tanto, per quanto riguarda la vicenda per la quale oggi lei è stato chiamato a rispondere qui, noi, lei me lo confermi, facciamo riferimento a due interrogatori, a due esami, perché lei è stato sentito come testimone, a due esami, uno fatto il 21 maggio del 1996 nel carcere di Belluno dal Pubblico Ministero di Perugia, è vero signor Futolo, è quello sul quale è stato interrogato. Un altro è quello al quale faccio riferimento io, probabilmente anche lei quando ha detto confermo solo l'ultimo quello di... Sì, sì, me lo ricordo, ma crede che non c'entravano questi giudici... Come dice? Crede che non c'entravano questi PM con questo omicidio che mi interrogarono... No, scusi, non lo... Crede che non c'entravano questi PM che mi interrogarono per questo omicidio di Accarinola. Non lo so. Adesso ci arriviamo. L'altro verbale al quale farò un riferimento in questo controesame è quello del 26 aprile del 94 fatto alla Procura della Repubblica di Roma. Quando lei ha detto confermo solo l'ultimo e non il primo si riferiva a questi due verbali... E gliel'ho spiegato il motivo nel senso che erano quattro mesi che mi torturavano la mente. No, ma ho capito il motivo. E questo è il motivo. Le chiedo solo ora conferma se lei si riferiva quando ha detto confermerò solo l'ultimo verbale. Stavano indagando sull'omicidio Calvi. In quella circostanza si è parlato anche dell'omicidio Pecorelli. Ora lei ricorda quello che ha detto in quella circostanza. Con precisione no. Lei avrebbe detto glielo dico subito di un ruolo di Giuseppucci e della mafia nell'omicidio di Pecorelli. Non l'ho detto. Non l'ha detto. Mi possono anche querelarlo. Non l'ho detto. Allora io sono... Ma tassativamente non l'ho detto. Allora io sono costretto signor... Eh? Per favore Avvocato Termina sta facendo le domande proprio. Sto cercando proprio di fare quello. Avvocato abbiamo già... Avvocato lei si oppone quando io sto facendo una cosa che lei mi chiede di fare. Presidente chiedo scusa è stato detto che in questo verbale sarebbe stato affermato dei rapporti tra gli giusti che non è vero. Adesso io lo leggi così. Tutto qua. Io ce l'ho detto che avevo rapporto con tutto l'organizzazione prima di contestarlo dovevo fare la domanda. È chiaro. Ho fatto la domanda e adesso leggiamo. Allora Casillo mi rappresentava in toto dunque stiamo parlando del verbale 26493 Roma dottoressa Cesqui e Vardaro mi pare. Dunque Casillo mi rappresentava in toto anche nei miei rapporti con i romani. La NCO era entrata alla grande nella malavita romana. Nicolino Seris era il mio capozona per Roma. Anche con Giuseppucci avevo rapporti di stretta amicizia. Giuseppucci manteneva i rapporti anche con i siciliani mentre Seris era uomo mio la mia... Non ho detto che non è siciliano. Aspetta, aspetta. Prima faccia leggere. Leggiamo quello che c'è scritto poi dopo lei. E poi lei parla prima sente quello che... Rapporti anche con i siciliani mentre Seris era uomo mio e la mia presenza nella NCO era incompatibile con quella della mafia sullo stesso territorio. Sì. Per quanto riguarda Seris posso dire che ad un certo punto lui mi chiese delle armi con silenziatore e mi disse che dovevano servire per far fuori il giornalista Pecorelli. e mi disse che dovevano servire per far fuori il giornalista Pecorelli che faceva il doppio gioco perché teneva i contatti con quelli della banda e poi riferiva tutto al generale della chiesa. Io lo mandai da Di Stefano Paolo che era il capo dell'andrangheta e non so cosa sia. No, era uno dei capi. Era uno dei capi. Solo dopo l'omicidio ricordo che una volta per scherzo dissi a Seris che secondo me Pecorelli se lo avevano fatto fuori se lo avevano fatto fuori loro non lo avevano fatto di iniziativa ma per fare un favore ai siciliani e lui invece insistette nel dire che lo avevano fatto fuori perché dava fastidio a loro perché faceva il doppio gioco e li infastidiva anche con il suo giornale. Ricordo che disse che andava a fare anche i blitz con il generale della chiesa. Feci lo stesso discorso con Giuseppucci e lui mi disse che effettivamente avevano fatto un favore anche alla mafia. Dunque poi c'è un altro pezzo ma questo credo che sia ribadisco che il mio più stretto contatto con i romani era costituito da Nicolino Sedis che era un personaggio secondo me sottovalutato dalle ricostruzioni processuali dell'attività della Magliana. Allora signor Cutor queste sono le cose che risultano avverbale peraltro le faccio notare che non salvo errore mio ma non credo che ci sia non ci sono domande dei pubblici ministeri sembrano quasi delle dichiarazioni sue spontanee voglio dire e lei che nel corso del discorso che le ho letto dice questo non c'è una specifica domanda queste dichiarazioni come? erano quattro mesi che mi torturarono tutti i PM d'Italia quando parla stia sempre vicino al microfono per favore se no non la registriamo comunque lo te ripeto mai Giuseppucci mi ha detto che è fatto un favore ma però adesso vogliamo capire mi ripeto Giuseppucci lavorava per tutte le organizzazioni criminali d'Italia anche per me perfetto mi faccia capire una cosa lei queste cose quindi non le ha dette o le ha dette non le ho dette in questo contesto come l'ho detta adesso lavorava per tutte le organizzazioni d'Italia che faceva le rapiglie col suo gruppo diciamo così quindi queste cose lei al pubblico ministero di Roma non le ha dette non su questo contesto su il contesto come per contesto che intende nel senso che faceva favore alla mafia mi vogliono far parire come i miei predetti che hanno fatto favore alla mafia quando non è vero mi ripeto Giuseppucci lavorava per tutte le organizzazioni criminose d'Italia anche con me ma questa notizia specifica questa è quella che ho risposto perché sto rispondendo a lei adesso stiamo parlando di pecorelli a fare anche il glitz con il generale della chiesa feci lo stesso discorso con Giuseppucci e lui mi disse che effettivamente avevano fatto un favore anche alla mafia ma non è preciso perché Giuseppucci si è incontrato dopo la morte di questo giornalista da cui questo risulta mi disse che avevano fatto quindi che era stato ucciso prima risulta una grande cosa ci vorrebbe sempre il registratore quindi lei non l'ha detto in questo modo e come l'ha detto nel contesto Giuseppucci lavorava per tutte le organizzazioni non sto parlando di Giuseppucci l'ho capito che lavorava per tutte le organizzazioni il problema è l'omicidio pecorelli Giuseppucci le disse che l'avevano fatto per fare un favore anche alla mafia non glielo disse quindi queste cose che sono scritte in questo verbale lei non le ha dette o non le ha dette non è che non le ho dette l'ho dette in un altro contesto mi sono spiegato potreste che loro mi hanno domandato mi ha fatto un favore alla mafia no ho detto Giuseppucci allora l'ho perduta allora mi faccia capire signor Cuto quando lei dice non le ho dette in questo contesto io voglio sapere lei lo ha detto io ho detto tante cose mi sono spiegato però non stanno registrate così vi potreste rendere conto non ho detto questa cosa è speciale signor Cuto io mi voglio proprio rendere conto io vorrei capire comunque non me l'ha detto Giuseppucci mai non glielo ha detto ma io qua il problema non è se Giuseppucci glielo ha detto anche quello il problema è lei ai pubblici ministeri di Roma che di questi stiamo parlando gli ha detto che Giuseppucci le ha detto che l'omicidio di Pecorelli era stato fatto per fare anche no sennò io dovevo ammazzare Nicolino Seris e ve l'ho detto prima Nicolino Seris il mio capozono era il suo capozono era uno dei capozono della Magliano non potevo fare un favore alla mafia quindi lei Giuseppucci non glielo ha detto non glielo ha detto tastativamente ma non glielo ha detto quindi queste dichiarazioni che sono qui non sono esatte non rispecchiano il suo pensiero ma vabbè io le altre abbia persenza già mi bastano queste io volevo sapere queste qui non rispecchiano il suo pensiero poi dopo lei viene interrogato e di questo le ha già parlato l'avvocato Taormino il 21 maggio 1996 dalla procura di Perugia e ha dichiarato c'erano anche le altre due un po' come serie di Perugia c'erano anche le altre due vicine non so chi sono chi erano se erano i capitani se erano maresciati non lo so c'erano anche altri due nel verbale qua c'è scritto c'è il pubblico ministero poi c'è ci sono degli ufficiali di polizia e giudiziaria della DIA forse questi comunque c'erano altre persone allora anche al pubblico ministero di Perugia lei ha detto quello che le è stato ricordato o sembra aver detto quello che le è stato ricordato che è un po' meno di quello che ha detto no io mi sono incontrato come si chiama questo ristorante a Civitavecchia con Giuseppucci da Sebastianelli sempre che si chiamasse così comunque no Sebastianelli comunque e l'ha escluso da stativa però vede vede signor Cutolo mi spieghi una cosa al pubblico ministero di Roma nel 1994 lei sembra aver detto Giuseppucci mi disse che era fatto per la mafia affermazione al pubblico ministero di Perugia nel 96 lei dice sembra aver detto non me lo disse esplicitamente ma me lo fece capire perché ha le mie insistenze così è il senso del discorso che lei ha detto chiesi questo a Giuseppucci e lui pur non confermando pur confermando le motivazioni che mi aveva dato Seris alla mia insistenza sull'implicazione della mafia attenta e no non ha quindi confermato esplicitamente che l'omicidio era stato commesso anche per fare un pavore alla mafia anche se l'ha fatto capire sul mio insistenza questa è quella di Perugia quella che lei ha detto che avrebbe confermato anche su questo di Perugia ti dici dovrebbero stare scritte altre cose le altre cose ne parliamo dopo gliel'ha chiesto l'avvocato Taormina se lei sa altre cose le dica se è scritto così non è vero quindi non è vero l'affermazione fatta a Roma nel 94 non è vera l'affermazione un po' più attenuata fatta a Perugia è vero oggi che non ha detto niente di Giuseppucci tassativamente non me l'ha detto che hanno fatto un paura alla mafia ma lei glielo posso giurare proprio su Dio sono pretende comunque che ne se ne dice quindi Giuseppucci tassativamente l'ha escluso che c'era un'interferenza forse erano potuto capire quando io ho detto che Giuseppucci faceva favore a tutte le organizzazioni che mi erano d'Italia perché faceva le rapine con il suo gruppo ci sono spiegato questo invece a Roma aveva detto una cosa diversa a Roma non fa mai parlare a Roma ai pubblici ministeri di Roma a Carrino venivano a Carrino per quattro mesi mi hanno torturato sì vabbè però erano a Carrino a Carrino ne hanno perfino scarcerato in senso che io vi ho parlato e invece Giuseppucci o comunque se li si le disse che cosa ce lo racconto di nuovo che Pecorelli era stato ucciso perché era in combutta con la banda della Magliana combutta che vuol dire è la parola ha detto combutta non lo so cioè facevano affari insieme no è un affaro forse affari nel senso affari captava notizie e poi se la facevo le andava a dire il generale della chiesa ma maggiormente che andava anche nei carceri a fare le perquisizioni ecco lei disse qualche particolare su queste perquisizioni fatte da Pecorelli nel carcere? ma maggiormente mi parlavano di Cuneo e Pecorelli era andato a fare quello che ricorda signor Cudolo per noi è molto interessante sapere che Pecorelli andava a fare le perquisizioni col generale della chiesa io sono da 34 anni no ma quello che ricorda sono da 16 anni totalmente isolato allora mi racconti quello che ricorda di queste perquisizioni mi ha spiegato l'avvocato Dormini sì ma abbia la compiacenza anche se di spiegarlo anche a me ma vi ripeto il Cedis venne a trovarmi un mese due mesi prima perché andava a licenza comunque e mi chiese una pistola io lo mandai no no questo l'ho capito io volevo sapere delle perquisizioni a Cuneo fatte da Pecorelli anche in altra vita da chi l'ha saputo questo me lo ricordo da chi l'ha saputo da Nicolino da Nicolino sì la seconda volta da chi lo sapeva vicino al microfono la prego e lei e lei chiese a Cedis da chi aveva saputo di questa perché stavano in combutto con questo Pecorelli non lo so da chi l'aveva saputo quindi forse l'avevano saputo dallo stesso Pecorelli che andava a fare le perquisizioni no è assoluto da altri amici loro che stavano in calcio dai brigatisti tra l'altro comunque anche brigatisti negri perché Giuseppuccio stava più vicino ai brigatisti negri anche Giuseppuccio non lo sapevo e quindi ecco perché lo sapevano va bene intanto una cosa che non ho capito se è abbastanza chiara lei viene sentito il 26 aprile 94 per l'omicidio Calvi lei viene sentito il 26 4 per l'omicidio Calvi conferma? infatti i verbali inizia sono prendo atto che mi viene chiesto di riferire quanto a mia conoscenza eventuale sulle vicende collegate all'attività e alla morte di Roberto Calvi e su su Pecorelli le sono state fatte domande non mi ricordo non mi ricordo non risultano dal verbale il verbale non risulta nessuna domanda anche quando le chiedono per favore per favore no il verbale non risulta nessuna domanda credo che scusate penso che ci siano contestazioni ci sono le contestazioni del verbale quindi il verbale sarà acquisito lo vedremo sì il verbale sarà acquisito ma io faccio presente fin da adesso che è vero faccio presente fin da adesso che è vero che non sono verbalizzate domande ma è vero anche che viene verbalizzato quanto ho appena letto cioè l'argomento dell'interrogatorio questo è il primo punto secondo lei conferma questo è un chiarimento perché mi è sembrato un inciso un po' che è sfuggito che il il discorso della collaborazione che è è il PM che venne a Belluno sì me li conosce su quello che ha scritto tutte le ma vi ricordate tutto quello che abbiamo parlato me lo dica un po' di che cosa abbiamo parlato adesso me lo dirà poi alla fine le chiederò proprio questo mi dica tutte le cose che abbiamo detto e che io non ho scritto quando io ho parlato lei ha la possibilità è davanti a una corte d'assise e tutto quello che ha detto che io non ho scritto non è il fattore quanto vuole questa era proprio l'unica cosa l'ultima cosa che volevo chiedere e io ci ho creduto comunque ma lei ha detto quando mi dice quella frase disse che era una battuta e io ci ho creduto comunque quando io gli parlai così colorosamente del presidente André Otto comunque adesso ci rispetti un attimo un attimino aspetti un secondo volevo solo chiederle due cose vedi mi ha fatto perdere il filo allora ricominciamo da un'altra parte guardi lei può dire lei ha detto che è stato è detenuto da tanto tempo io mi sono costituito purtroppo dopo aver ammazzato i nuovi il 27 febbraio del 63 e da 16 anni mi fanno stare totalmente isolato però il suo periodo di detenzione l'ha già ha già ricordato è stato interrotto per un periodo di allontanamento dal manicomio di Aversa chiamatelo come volete evasione allontanamento io qui ho messo allontanamento forse per una volta l'ho scritto bene è l'assurdità che non mi hanno io avevo preso 5 anni di prosceglimento quando mi hanno riarrestato non quelle che dici i film guardi volevo solo che lei precisasse tre castri innocenti io ho preso tre castri innocenti e quattro che dovevano essere condannati sono stato assolto io dico la verità non le menzogne allora guardi volevo chiedere nel senso che quando mi hanno riarrestato se lei mi fa la domanda mi dovevano riportare nel manicomio perché dovevo scondare i cinque anni di prosceglimento della corte di assisi mi dica soltanto questo periodo di libertà anzi o di latitanza chiamiamolo come vogliamo in cui lei che lei ha trascosso ad Albanella l'ho già detto qualche volta ho già detto mi hanno arrestato a dei cinzani e mi hanno rilasciato in gran parte ad Albanella va bene? va bene che l'ha trascosso in gran parte no era un punto fisso che ci stava allora le contesto che evidentemente due giorni tre giorni quattro giorni diciamo così allora anche qui evidentemente ho verbalizzato male ad Albanella dove ho trascorso in gran parte la mia latitanza dopo il mio non è in gran parte ma voi potete dire a dei senzani mi hanno perfino arrestato e mi hanno rilasciato senta questo periodo in cui lei questo periodo di libertà di latitanza quando inizia e quando finisce e quando io mi sono allontanato da Versi no le date se le ricordano che allora se lo ricordano mi sono allontanato da Versa sempre i cinque e non vi dimenticate che io sono tanti anni isolati dal cinque febbraio del settantotto credo o settantasette e mi hanno arrestato il quindici maggio del settantanove credo volvi ad Albanella i carabinieri con un grande servizio senza i signori venditi comunque il secondo la seconda la seconda precisazione che volevo fare rispetto a quello che ha detto oggi lei conferma che anche questo discorso di collaborazione di Pecorelli con Dalla Chiesa lei l'ha sentito confermato anche a Cuneo in carcere la cosa che sentiva dopo dopo mi hanno portato quando mi hanno riarrestato mi hanno portato a Trano poi mi hanno portato a Novara poi mi hanno portato a come si chiama di nuovo a Cuneo mi hanno portato a Cuneo poi di nuovo a Novara poi di nuovo a Cuneo comunque si parlava a Cuneo che questo il generale andava spesso lì a Cuneo con con il manasciallo del carcere sempre si chiama massicantele se non sbaglio comunque ma che andava anche un giornalista con lui a fare le perquisizioni con le CRT questo giornalista però dopo morto logicamente quindi questo Pecorelli andava l'ho saputo anche a Cuneo lei ricorda da chi l'ha saputo in particolare? da tanti specialmente dai brigatisti ah specialmente dai brigatisti io stavo molto bene con i brigatisti se no non mi avrebbero dato il Cirillo qualche nome il dottor Cirillo qualche nome se lo ricordo ah quindi siamo a prima del del sequestro Cirillo è successo l'81 comunque ad Aspoli l'81 l'82 l'82 sono stato segregato questi brigatisti con cui stavo in buoni rapporti non mi ricordo ci sono tanti si parlava si parlava però nomi dicevano questo non se li ricorda al momento ecco detto questo io ne volevo chiedere se a Perugia perché invece questo interrogatorio porta qualche domanda porta una domanda verbalizzata esplicitamente e due risposte precedute dall'indicazione ADR o DR volevo chiedere le sono state fatte dal PM di Perugia che le parla in questo momento domande su Andreotti abbiamo fatto degli ambi discorsi no a partire ambi discorsi mi corregga forse lui che altro aveva fatti lei qualche discorso io non ho avuto voglia di fare domande lei è un PM no io le ho chiesto un'altra cosa io le ho chiesto se io le ho fatto domande su Andreotti lei mi ha detto soltanto dopo la frase io lo dico perché l'ho scritta una lettera a Salerno perché a Salerno per le accuse dei penditi dei signori penditi di certi PM non lei comunque mi hanno mandato a giudizio per la morte dell'avvocato Marcello Torre erano tutti penditi indottrinati allora ho fatto una lettera alla corte e mio figlio io ho detto anche per dire un altro PM viene a dire Andreotti è simpatico che non l'accuso crede che lei non lo negherà penso che lei me l'ha detto quando io ho fatto quella vehemenza a difesa di Andreotti perché per me è stata la più grande statistica che abbiamo avuto in Italia lei conferma che quindi quello che si legge qui spontaneamente intendo far presente che se l'omicidio fosse stato fatto per fare un favore ad Andreotti i selis avrebbe avuto l'obbligo di dirmelo lo conferma conferma anche lo spontaneamente cioè che è una cosa che ha detto lei appunto ne parla spontaneamente questo che volevo chiarire no invece è proprio quello che è avvenuto invece è proprio quello che è avvenuto cioè che spontaneamente è stato fatto questo riferimento allora lei perché non l'ha registrato detto quel colloquio guardi adesso che me lo dice sicuramente ma io sono convinto che lei l'ha detto in buona fede guardi senta una cosa allora mi dica un'altra cosa vabbè lei conferma che io ho detto questa cosa lei dice che non l'ha detto purtroppo guardi non mi faccia lei l'interrogatorio a me perché non per favore non è questo faccia lei l'interrogatorio a me per coltesia lei è un PM lei è la legge credo che questo non sia un domanda ecco perché poi ti denuncio e metterlo tutti senta una cosa no dica adesso una cosa visto che lei ha fatto l'ultima domanda che le voglio fare anzi una sollecitazione con una domanda visto che ha detto che lei io sono stato onestero prego visto che lei ha detto sì sì me ne lo vedo visto che che lei ha detto che ha detto abbiamo detto anche tante cose che non sono state scritte e verbalizzate le dica se le ritieni a tutti dica tutto con questo ho finito parli pure lei no non devo parlare di niente signor procuratore lei non se la deve prendere comunque io non ce l'ho minimamente con lei perché lei è stato quindi vi ripeto io vi ho parlato ampiamente del del presidente Andreotti che per me ero il più grande statistico che abbiamo avuto in Italia eccetera eccetera e tante altre cose comunque e forse lei perciò gli ha sfuggito questa frase lei gli ha sfuggito e ha detto e non mi ricordo abbiamo detto tante cose comunque ditele a quelli che stavano con voi può darsi che la convenga va bene la parola alla parte civile signor Cudolo buongiorno sono la giocato Ferrazza e difendo la famiglia del giornalista ucciso a me mi dispiace per la famiglia senza altro lo dico sinceramente anche a loro è dispiaciuto molto non ipocritamente senta signor Cudolo lei voleva fare alcune domande in primo luogo lei era preoccupato che questo omicidio per il quale Nicolino le chiedeva l'arma fosse una cortesia da fare alla mafia no no lei era preoccupato di questo e per questo glielo chiede ma adesso le dico una cosa lei poco fa diceva se Giuseppucci mi avesse detto che Nicolino l'omicidio l'aveva organizzato per fare un favore alla mafia io quello Nicolino lo uccido è normale perché ci combattavamo dalla mafia e Nicolino che era un uomo mio non poteva non poteva fare un favore alla mafia è normale ma Giuseppucci non era amico di Nicolino si erano due capi era più amico di Nicolino Seris o suo chi Giuseppucci era più amico di Nicolino Seris o vostro io ero più amico mio Seris no no Giuseppucci era più amico di Nicolino Seris o vostro di culo ma insomma lui se avesse detto Nicolino l'ha fatto per fare un favore alla mafia sapeva che lei lo doveva uccidere no io non ce l'ho detto io ho domandato soltanto di confermarmi perché avevano se era vero perché mi aveva detto e quindi certamente se lui l'avesse saputo ve l'avrebbe detto che l'omicidio era per la mafia perché non me lo doveva dire mi ha detto tante cose avrebbe soltanto ucciso Seris nel caso se Seris lo sapeva però che veniva ucciso se diceva che c'entrava la mafia vogliamo fare una cosa io sono il cattivissimo Cutolo data l'ammesso anche su omicidio non ne parliamo più no Cutolo io dico solo questo ma questa è la cosa se ne rende conto da sola che non avevano nessun motivo di essere sinceri nei suoi confronti né Nicolino Seris né Giuseppucci ma questo dovreste capire anche voi signor Cutolo scusate quello che sempre riguarda i rapporti con la banda e la Magliana lei ha mai sentito parlare di Danilo Abbruciati? si non lo sentite soltanto parlare e chi era? era uno della banda e della Magliana ho capito penso anche lui e le risulta se questo Danilo Abbruciati avesse contatti o no con la mafia lei questo non lo sa non lo so l'ho letto sui giornali delle festeriche l'ho letto sul giornale che aveva aveva contatto con la mafia e ti devo dire questo ho letto sui giornali fu l'unica volta che Nicolino le chiese un'arma? no molte volte abbiamo scambiato allora meglio allora non era non era specificamente ho capito e ogni volta le spiegava per che cosa gli serviva? è normale con il mio capo a zona Roma lei è normale ma io sono un mondo un po' diverso certe cose mi le dovete spiegare io mi parlo dell'epoca non di adesso è certo allora questa pistola venne data poi da Di Stefano c'è un risposto non lo so non in quest'aula non in quest'aula non ne so più niente non ne so più niente se l'hanno dato non ce l'hanno dato io l'ho mandato dato da Enzo Casillo da Enzo Casillo che era puttò diciamo così si rappresentava è qui voleva arrivare Pecorelli viene ucciso e voi vi preoccupate di sapere se è stato un omicidio fatto per favorire la mafia esatto e non vi preoccupate di sapere comunque se è stato fatto con una pistola che ha procurato Casillo non gliel'avete chiesto a Casillo? non ci interessavamo allora io ero ero quello che era comunque sono cambiato grazie a un pesco che era vabbè questa è un'altra cosa da 16 anni sono cambiato totalmente sì un'ultima cosa mi interessava solo lei ha detto che vi combattevate con la mafia sì per la condizione ma con rispetto con rispetto e chi dice di no? ma questo avveniva anche su Roma? no no lì in Campania soltanto in Campania in Campania le dice nulla il nome di Giuseppe Calò ha detto Pippo Calò ha letto sui giornali ha letto sui giornali lei non sa se Nicolino Selis Giuseppucci o Danilo Abbruciati avessero beh Danilo Abbruciati logicamente non lo può sapere ma se Nicolino Selis o Giuseppucci avessero certamente di no di Selis comunque non lo so voi di Selis certamente no quando Nicolino raccontò delle perquisizioni che Mino Pecorelli sollecitava organizzava in accordo con il generale della Chiesa le disse a che cosa erano rivolte cioè venivano fatte queste perquisizioni per quale motivo? ma scusate quello che fa un generale fa il suo davvero c'è Cantecate carti indizi eccetera eccetera non so perché si portava al giornalista povero giornalista Mino Pecorelli non lo so questo non lo so perché voce nell'ambito della banda della Magliana cioè quella che era la convinzione di Nicolino Selis era che il generale della Chiesa lo portasse proprio con sé Mino Pecorelli nelle scelte dei carceranti vi ripeto dice che perciò loro stavano malo con questo giornalista perché prima dice che abbattava da loro delle cose stare in computto come disse la frase e poi riferiva il generale della Chiesa ma il generale faceva il suo dovere ma per perdere accetto che faceva il suo dovere io non ho altre domande signor Presidente bene la difesa di Calò nessuna domanda la difesa di Andriotti lei si è riferito agli informativi che ha avuto quando si è recato al carcere in giugno nell'80-81 sì no 80 80 80 ci sono state due volte l'avvocato risulta in particolare quale fosse stata l'attività del maresciallo direttore del carcere in Candela in Candela penso che è notorio comunque cercava di sapere cosa dei suoi confidenti in carcere e le riferiva per voi al generale della chiesa tra l'altro una volta mi ha chiamato anche a me per sedare una rivolta e l'ho sedata comunque ci sono riusciti ha saputo se in Candela avesse provveduto a nascondere del materiale che poi fece ritrovare dal maresciato ma in Candela dice tante cose vedete l'ha detto anche su un processo a Santa Maria che sono stato assolto con le sue accuse comunque tra l'altro proprio quelle accuse specifiche di Candela dice che ce le aveva detto un'altra comunque sono stato assolto ma mi interessa ecco però volevo sapere specificamente questo se l'è mai giunta notizia che il maresciallo avesse provveduto a nascondere del materiale che fece trovare poi si lui cercava sempre di sapere vedete il maresciallo in gambele perfino ha fatto con un nastro registrato noi parliamo del fatto Cirillo logicamente per dare una risposta a lei comunque ha fatto registrare un certo bossi che poi stranamente è morto in garce sono morti tutti comunque quasi tutti solo io sono vivo ma la morte è una cinica realtà che si deve accettare tra l'altro quindi ha registrato una scossa a questo opposto tutto era l'attività perché era un brigatista questo boss però era come un serista diciamo stava vicino a me comunque si è fatto dire tutto perché io me lo feci portare ad Ascola a questo bossi per avere contatto con il BR per far liberare Cirillo così che ci riuscì ma non ne sono orgoglioso comunque sono orgoglioso del bambino che ho fatto liberare quando ero là di Dante e mi arrestarono un bambino di 9 anni quindi ha fatto registrare questo nastro e poi se l'ha tenuto una scossa e poi l'ha portata al processo Cirillo comunque senti l'ultima domanda lei ha il pubblico ministero le ha letto la dichiarazione che le ha reso nell'interrogatorio del 96 spontaneamente dichiara che se Sedis farebbe lì a Belluno se Sedis avesse agito anche per conto della mafia avrebbe dovuto dirmelo si prima di questo no ma no se me lo dice ma non è possibile io parto da questa dichiarazione prima di questa dichiarazione ecco vorrei a questo punto ha avuto già parecchie domande ma la ripeto ancora se è possibile prima di questa sua spontanea dichiarazione le venne rivolta qualche specifica domanda sul presidente Andreotti e di quale tenere no ma forse specifiche da domanda domanda nel senso ripeto che io ma non lo crederei nemmeno se lo vedessi che il presidente Andreotti comandasse a un criminale come Cutolo una volta di comandare un omicidio comunque uno statista di quella portata non ha bisogno di noi comunque sì ma bene scusi Cutolo lei ha detto all'inizio della sua reposizione mi dissero tante cose di Andreotti non verbalizzate ha detto questo può dire che cosa qualche frase che venne detta lei di Andreotti o qualche domanda che le venne rivolta concernente il presidente Andreotti no insomma che volevano qua insomma può darsi che mi confondo io volevano che io accusava il presidente Andreotti però è un'impressione mia mi sono spiegato vi parlo di Carimano specialmente perché mi hanno proprio hanno usato proprio una tirannia sulla mente cose che sono stupendo da 16 anni ma non interessa a me interessa quello che è accaduto nel ritrovatorio del giugno del mondo no 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 si è parlato di così si è parlato di Andreotti prima sì sì e non può dire in che tempo poiché forse lui ha visto questa mia accanimento nel difendere Andreotti perché per me io vi ripeto io non lo conosco non l'ho mai visto comunque sui giornali ho letto qualche suo libro eccetera eccetera disse perfino se lei si ricorda come le chiedo scusa si fa una brutta figura in tutto il mondo ma come Andreotti è stato il capo della mafia per 40 anni è assurdo questo chi disse questa frase pubblico ministero si è un errore che dice perciò mi va bene basta no va bene presidente per me basta grazie di Carminati anche per la barbera e l'avvocato Dormina per la difesa di Talone senta questa audizione signor Presidente le voglio dire una cosa io sono convinto che anche il PM di Perugia adesso me la faranno pagarmi andranno dai penditi per farne per favore non faccia conterare i commenti lei ha detto quello che è quello che spatti il bicchiere qui sopra per favore senta volevo chiedere prega signor Cutolo volevo sapere questo verbale delle dichiarazioni che lei ha reso alla procura di Perugia il 21 maggio 1996 alle ore 10 e 15 lei ricorda quanto tempo è durato questo esame lì a Belluno con precisione avvocato ore minuti ore non ricorda quando è tornato in un'unicello potete vedere dai registri del carcere sentite avvocato io ci ho mandato una lettera alla procura di Salerno ci stanno tutti gli orari che stanno le entrate e le uscite potete vedere sui registri del carcere lì non ci fugge niente comunque ore e non minuti no penso più di un'ora più ore comunque ore comunque ore ore senta una cosa vedete ripeto potete telegrafare vedete perché a me scrivono perfino quando vado al bagno per esempio quando io rientro in cella da qualche parte o dal colloquio segno sul registro quando esco dalla cella scrivono sul registro quando esco per dire un PM come è successo a quelli di Salerno con una sedicente scrittrice francese comunque mi fanno fare dei confronti eccetera eccetera che poi non riparleremo comunque se ho visto l'orario è che è finito il confronto per dire però io sono uscito un'ora dopo un po' il PM mi ci ha fatto parlare un'ora con questa sedicente scrittrice che mi dice che non ha progettato più di me un po' si è saputo dice che viene estipendiata dalle procure di mezz'Italia e ha voluto sapere qualcosa anche dell'omicidio pecorelli no no facciamo bene tra poco senta un'altra cosa ma io sto malissimo le chiedo scusa ma adesso faccio velocemente no 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 ma non è per lei io vorrei veramente la giustizia ma è raro che si tratta senta lei è al corrente che se la mafia avesse dovuto commettere un omicidio o la banda della Magliana chiedo scusa correggo la domanda se qualcuno della banda della Magliana se o d'altro avesse dovuto commettere un omicidio per fare un favore alla mafia da seri sono sapere senza altro no no aspetti mi faccia mia domanda avrebbe avuto problemi per rintracciare un'arma per sparare ha capito la mafia credo di no è come io non avevo problemi lei è al corrente se la mafia a Roma fosse allora in grado dovendo commettere un omicidio di rintracciare una pistola penso di no ma io credo di no perché nel senso perché io l'avrei saputo ecco l'avrei saputo se fosse stata la mafia cioè voglio dire se la mafia se fosse stata la mafia io l'avrei preso anche a Roma perché a Roma noi stavamo pensa che lei lo sa stavamo impiantati bene Enzo Castiglia e tanti altri si hanno fatto tanti processi a Roma quindi se la mafia attraverso la banda della Magliana doveva commettere un omicidio aveva bisogno o non aveva bisogno rivolgersi a Cudolo per avere un'arma la mafia si rivolgeva a me la mafia domanda ma ne esiste proprio comunque vi ripeto noi vedete con la mafia ci siamo sempre rispettati però ci compattevano in campagna ma maggiormente con i mezzi mafiosi napoletani che erano mafiosi comunque e io penso che stesso loro capivano che si erano venduti la loro terra questi napoletani che stavano con la mafia comunque senta una cosa come se qualche siciliano stava con me e si era venduto la sua terra senta Selis le ha mai parlato di Vitalone? mai io mi sono meravigliato che nessuno me l'ha chiesto che sta imputato anche lei conosce il dottor Vitalone? personalmente personalmente non è la prima volta che lo vedo in televisione in televisione su questo processo tra l'altro o quando facevi il ministro quindi lei da Selis di Vitalone non ha mai sentito parlare? mai senta qualche magistrato le ha chiesto qualcosa di Vitalone? no mi sono meravigliato che si parlava di Andreotti vedo che sono imputato in questo processo che assurdo senta un'altra cosa lei ha mai sentito parlare di un certo Dortenzi? Dortenzi? si Dortenzi detto Zanzarone Zanzarone sì ma Dortenzi no se ne solo parlavano è il nome è il nome ma stava sì i soliti nomi comunque stava vicino alla banda della Miami ma così ma qualche volta oppure mi confondo forse l'ho letto su qualche giornale no ecco io le faccio un riferimento più preciso Semerari lei sa di rapporti tra Semerari e Dortenzi ma vedete a me mi dispiace parlare di un uomo di scienza che era veramente come psichiarra era grande ma aveva delle idee pazze ripeto era più pazza di me parlava di bomba parlava di quello parlava di quello un giudice le era indicati che lo volevo fare ammazzare e io gli disse no io non ci voglio avere più a fare un mese prima della perizia ve lo dico perché il signor pendito a Maduro va dicendo che l'ha fatto ammazzare perché ha fatto una perizia a me non mi ha fatto mai perizia un mese prima che lo arrestavano c'è lei lo revoco perché lo vede con le manette quindi non ha mai saputo niente di rapporti tra zanzacone aveva rapporto con i terroristi neri questo io in Semerari cose che mi ha detto Semerari e con la banda della Magnana aveva rapporti Semerari con questo Giuseppucci tramite Giuseppucci no tramite con Giuseppucci con Giuseppucci poi non so altro va bene grazie grazie a me alcune domande della corte signor Accudo vuole chiarire un attimo una frase che le ha detto nei suoi rapporti con Paolo mi pare De Stefano Paolo De Stefano che con Paolo De Stefano vi scambiavate delle armi vi scambiavate delle armi ma questo scambio di armi a cosa serviva per tanta cosa a volte uno serviva a me mi dispiace parlare di mio passato perché veramente ho detto basta da 16 anni che sposai a mia moglie all'asinare poi il vescovo di Casentrico mi ha ricostruito la coscienza e che che mi stanno facendo non mi interessa quindi ci scambiamo delle armi perché con Paolo era amico amico stretto si ma voi della nuova camorra organizzata non avevate armi della sua organizzazione chiamiamola la sua non è importante ma voi non avevate armi che avevate necessità di andarle a prendere no sì 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 molte volte si restava sensato perché dopo dei reati purtroppo sul mio nono sulla mia pelle ne hanno fatto tante comunque ed è giusto che sconderò di dare via quando commettevate un reato poi l'arma la gettavate no la buttavamo subito subito allora la forza serviva un'arma maggiormente privata Paolo e il suo gruppo Paolo di Steno non altri calabresi senta lei conosce visto che è dell'ambiente napoletano o califo io sono vesuliano vesuliano non so se fa parte della nuova del suo gruppo o del gruppo avversario suo signor giudice quello è molti no 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 mi scusi mi scusi mi serve solo per sapere se faccio se ho scutato la mia domanda serve solo per sapere ma califo è questo napoletano eh Ciro Vollaro ecco allora mi interessa conoscere la famiglia Vollaro la famiglia Ciro Vollaro no Ciro Gigino no la famiglia io conosco Gigino Vollaro ecco Gigino Vollaro ecco mi interessava a sapere tanti anni fa Poggio Reale siamo stati alle cellule signor Cutro non mi faccia finire la domanda io sto isolato se mette vabbè le volevo volevo sapere un'altra cosa se Luigi Vollaro era in buoni rapporti con lei o era in rapporti faceva parte dell'organizzazione che si opponeva a lei solamente questo voglio sapere spiegazione io vi parlo di tanti anni fa con Gigino Vollaro siamo stati sempre amici proprio amici stretti comunque lui fece il costruttore all'epoca vi parlo di tanti anni fa però si può dire 65 66 che sono in carcere dal 27 febbraio del 63 mi sono costituito tra l'altro in omaggio alla giustizia vabbè comunque quindi stavo bene con Gigino poi questa nuova famiglia come dice lei che si chiama non so se è così non lo so diciamo il gruppo non è vero come dice nel film che è stato composto ma io non l'ho visto il film non lo so è bene è l'81 dopo nel corso del sequestro Cirillo mi sono spiegando non lo so se feva a bollere il Digni giornale che faceva parte di questa nuova famiglia ma io non lo posso non lo so guarda lei ha parlato dei rapporti della banda della Magliana con Pecorelli ma Selis era quello che chiamano a Roma infame cioè faceva il delatore Selis non esiste proprio e Giuseppucci nemmeno parlando di questo Giuseppucci è negro è negro no no ha bruciati lei anche se l'ha conosciuto poco poteva essere non l'ho conosciuto proprio di nome di nome sì ma è uno che parlava faceva confidenze ma i romani sono fatti un po' così come i napoletani veraci ma questa gente ma Selis ah un'altra cosa lei è toscano Edoardo Toscano ne ha sentito parlare sempre della banda della Magliana io lì lo chiedo no no non mi ricordo non si ricorda di un certo Marcello con la figli detto Marcellone sempre di Sidi non so se erano anche in contato a qualche manicomio o a verso e beh sì perché circolavano i manicomio tutte queste persone e gente che andava a raccontare le sue cose a un giornalista le sembra sì andavano a raccontare no non Selis Selis è di origine sarda non raccontava Giuseppucci lei mi ha detto lo stesso e sarda parlano pochissimi non capito va bene senta lei ha mai saputo visto che Selis era un suo affiliato che aveva ne ha mai parlato di un suo progetto di unire un po' tutti questi gruppi della malavita romana per fare un'associazione un po' sì come me come me l'ha sentito questo? no Selis diciamo che ambiva di diventare il capo assoluto della Magliana poi sono saputo che c'è un pazzo a me pare che l'abbiano ammazzato per il signor sangue in America non lo so chi l'ha ammazzato è venuto a dire di averlo ammazzato poi non lo so senta lei ha mai saputo di una intenzione di Selis di uccidere a Bruciati? fino al 78 no un po' dopo no 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 non l'ha visto più ah dopo il 78 non l'ha più visto? sono andato in carcere ripeto non mi hanno portato più nei manicomi dove bazzicava anche Selis quindi lei da io ero a Selis non lo vedo da due giorni prima che ammazzato un grande sadisto moro nel 78 perché io mi ci incontravo anche a casa sua vicino al mondo al cinema sul suo appartamento che potete comprare senta ma quindi lei siccome Moro è stato sequestrato il 16 marzo del 78 lei quindi avrebbe visto Selis l'ultima volta due giorni prima mi venne a trovare due giorni prima che ammazzavano o andai a Roma da lui due giorni prima che fu trovato ecco ma la pistola Selis come gliel'ha chiesta personalmente? sì sì da sola quindi questo questo racconto vedo che purtroppo sono sempre cose che si chiedono da sola e poi lo sanno tutti comunque me l'ha chiesta da sola io l'ho mandato da Enze Casino perché Enze Casino sarà a Roma una casa a Roma e non so se l'ha preso questo racconto come si spiega con l'affermazione che lei ha fatto poco fa che la pistola le ha chiesto due mesi prima che ammazzassero pecorelli ma no non ho detto due mesi prima lei l'ha detto prima ma scattate facciamo voglio spiegare ogni volta che Nicolino riusciva a licenza dai manicomi non mi posso ricordare se è un mese prima se è tre mesi prima sei quindici giorni comunque lei da marzo del 78 non l'ha più visto però da quando hanno ammazzato Moro due giorni prima e quindi diciamo da maggio del 78 non l'ha più visto Sevis dopo ammazzato Moro non l'ho più visto va bene che forse non ho avuto più licenza non lo so dovrei sindacare non lo so ho capito quanto è stata ammazzata a maggio del 78 non l'ho più visto chi mi ha interessato anche a me il 15 figurate che un giornalista figurate che un giornalista mi sequeste cose in relazione come mai hanno sequestrato Moro quando è avuto le vado da Versa e ammazzano sequestrano a Moro come mai avrestano a Cutolo quando hanno ammazzato a Moro sapete non sono delle cose ecco perché a me mi hanno restato il 15 del 79 voglio precisare i carabinieri come grande operazione Moro però è morto un anno prima no no eh sì un anno prima un anno prima il 78 è morto è forse 5-6 mesi prima a maggio del 78 esattamente un anno e 6 giorni sulla data che demora non c'è problema no non l'ho più visto comunque io l'ho visto prima del salisto due giorni prima che fu trovato morto due giorni prima non l'ho più visto forse non è andato più in licenza non lo so vi direi una fesseria senta un ultimo argomento dobbiamo un attimo cercare di puntualizzare il fatto che dell'omicidio di Pegorelli si poteva o non si doveva o non si poteva interessare la mafia le sono state fatte delle domande lei ha detto se si fosse interessata la mafia Nicolina Sellis me lo doveva dire non lo sapeva senz'altro ma io volevo chiedere un'altra cosa ma questo discorso anche se lo facevo un altro della banda della Mayano certo ma io un'altra domanda le volevo fare ma questo discorso dell'omicidio Pegorelli che poteva o non poteva interessare la mafia ma io sono scattito che non gli interessava no 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 è un'altra cosa ma perché lei chiedeva se a Pegorelli era un omicidio che poteva interessare la mafia lei sapeva qualche cosa dei rapporti di Pecorelli con la mafia o di attacchi di Pecorelli alla mafia ho detto ho cercato di indagare perché vi ripeto non Sellis l'altro Giuseppucci se la faceva con tutta la criminalità italiana comunque allora ho voluto una conferma se per casa e perché gli interessava questo perché Nicolino non mi aveva detto una cosa grave perché anche lui combatteva la mafia come me mi scusi signor Cutolo cerchiamo di essere un attimo puntuale Nicolino Sellis le chiede ce l'hai una pistola perché devo ammazzare ma se aspetta mi faccia finire tutto poi mi dà la risposta ho bisogno di una pistola perché devo ammazzare Pecorelli lei chiede perché a Sellis non ce l'ha chiesto la prima volta la seconda volta gliel'ha chiesto e doveva ammazzare questo giornalista e in quell'occasione lei chiede ma deve ammazzare il giornalista per conto della mafia o no no signor perché non lo poteva fare non lo poteva fare no no ma io mi interessa sapere se lei l'ha chiesto perché la mano fanno le moine e poi si fanno i dati vendi che ne sapevo io ma c'è che cosa le ha messo su quelle che mi stanno più vicine cercavo sempre di indagare se mi dicevo il bene signor Cuto cerchi di essere un po' puntuale nelle risposte io le ho fatto una domanda e poi le faccio un'altra domanda fino alla morte di Pecorelli lei non sa perché non l'ha chiesto almeno ci ha risposto in questo modo non ha chiesto a Sellis se alla uccisione di Pecorelli era interessata la mafia nella prima settimana nella prima settimana successiva all'omicidio di Pecorelli quando poi lei chiede a Giuseppucci non mi pare potrei anche sbagliare che sui giornali si sia parlato dell'omicidio Pecorelli come di omicidio di mafia si parlava di altro va bene allora io le chiedo perché mai lei ha necessità di chiedere a Giuseppucci che veramente Sellis non ha ammazzato Pecorelli per conto della mafia no io non dico che l'ha ammazzato Sellis tra l'altro comunque ma vi voglio dire non era soltanto con Sellis che io fecevo così con tutti i miei capozoni cercavo poi di sapere se mi dicevano la verità perché avevano la loro autonomia però io volevo sapere la verità sono spiegato ho chiesto in sostanza a Giuseppucci se le confermo se le avevano fatte per qualcun altro esempio per la mafia o qualche altro ah quindi è stato un esempio questo della mafia per sapere per chi e lui mi ha risposto lo stesso che erano le cose che vorrei grazie grazie a lei su queste domande della corte la difesa di Talone signor Cutolo lei rispondendo al giudice all'Atre ha detto che non avrebbe più visto Sellis a partire da due giorni prima la uccisione il sequestro di Aldo Moro l'uccisione che trovavano quando trovarono Aldo Moro allora Aldo Moro è stato trovato morto il 9 maggio 1978 se così fosse se così fosse lei avrebbe fino a questo momento detto delle cose non corrispondenti al vero perché lei fino a questo momento ha parlato dell'omicidio Pecorelli del quale che si è verificato il 20 marzo 79 sì l'ho vista perciò mi confondo con le date 79 allora ricollochiamo le cose ripeto ogni qua volta andavo a licenza allora le domando prima di tutto lei come ha saputo che era morto Pecorelli dai giornali l'ha saputo dai giornali allora prenda a mente il momento in cui lei ha saputo dai giornali che era morto Pecorelli quanto tempo prima ha visto Selis rispetto alla notizia della morte 15 giorni prima credo 15 giorni prima credo 15 giorni prima questa è la seconda volta o la prima volta e la prima volta o 5 giorni prima comunque e la prima volta quanto tempo prima due o due mesi prima vi ripeto ogni qua volta andava a licenza ecco perché signor giudice mi confondo con le date di Dandian comunque nel senso perché io l'ho visto a Nicolino ogni qua volta che andava a licenza ecco noi le diamo il dato che corrisponde poi con quello che lei ha detto già rispondendo mi pare al pubblico ministero in effetti lei è stato latitante come ha ricordato dal 5 febbraio 78 al 15 maggio 79 epoca nella quale 15 maggio chiedo scusa epoca nella quale nella quale come si chiama il nostro il nostro selis era ricoverato appunto nell'ospedale psichiatrico o manicomio come lei ha detto di Montelupo di Montelupo Fiorentino allora anche a Devesta qui non ci risulta allora ecco voglio dire collochi temporalmente questi incontri e mi pare che lo abbia fatto sono comunque da collocarsi all'interno di questa latitanza sì o no? sì 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 tutto all'interno dell'organizzazione ecco allora lei perché dice due giorni prima che non ci sono di Moro? mi sono confuso forse il fattore del settant'opo perché io ogni coporto penso a Moro sempre due giorni prima e che poi mi hanno arrestato perché l'ho letto l'ho letto sul paese tanti anni fa invece a me mi hanno arrestato a novembre quindi ripeto lei era arrestata a maggio a maggio a maggio a maggio a maggio 15 ma vi ripeto sempre perché lo incontravo sempre quando andava in permesso per fine nel suo appartamento qui a Roma mi stia a sentire prima del 5 febbraio del 78 lei dove stava? dunque lei è latitante dal 5 febbraio del 78 stava ad Aversa non ne conviene avere perché la corte di Assisi mi aveva dato 5 anni di procedimento stava ad Aversa sì 5 anni di procedimento stava ad Aversa ecco stava ad Aversa e ad Aversa Nicolino stava ad Aversa fino a un mese prima se no sarebbe scappata con me quindi siete stati insieme lo stesso manicomio sì sì anche ad Aversa potete controllare c'era un certo ancio di amici altri domani comunque della banca allora domando tra il 5 febbraio del 78 e il 15 maggio del 79 vi siete visti con frequenza con quale ogni qua volta che significa ogni qual volta ogni qual volta lui andava a licenza o andava a trovare lui a Roma o lui a me ad Albanella e lei dove andava a trovarlo a Roma nel suo appartamento aveva un appartamento vicino a via Montalcini che si può controllare ho capito ho capito quindi è frutto di erroneo ricordo quello che ha detto rispondendo alla domanda sì 78-79 ma sinceramente ecco le chiedo le chiedo le chiedo ma perché questo come dire questo di memoria no voglio dire perché questo collegamento tra la morte di Moro e i due giorni prima c'è qualche altro fatto qualche altro evento e voi lo sapete credo per farmi una domanda nel senso perché io perché un avvocato mi voleva far salvare Moro e io lo chiesi a Selis comunque Selis non volendo se dove stava Moro ah ecco spieghi questo ma poi mi chiameranno di nuovo testimoniario insomma no voglio dire quindi lei due giorni prima della morte che si seppe che era morto Moro lei effettivamente aveva avuto questo incontro con Selis sì due giorni prima fece anche una battuta vicino a un vecchio che guardava i maiali in questa masseria no mi ha detto ma fai tu stai a Roma fai liberare a Moro perché questo vecchio si era un uomo allo stato brato e allora diceva sempre a me la cosa di Moro per televisione non poteva vedere i film mi ha detto fallo liberare e lui disse per fine mi ha avvicinato un giudice vede l'ha fatto liberare dopo due giorni e lui ha detto fino a Selis fece anche una battuta ma vi ripeto un mese prima 20 giorni prima o quel che sia io mi andai a chiamare Selis proprio per sapere dove stava Moro e lui glielo disse dove stava poi io disse vicino a questo avvocato che pensa che non interessa quella corte comunque se mi fanno incontrare con qualcuno dello Stato come hanno fatto poi con Cirillo mi intervengono lo Stato non si volle rincontrare con me allora la didante Selis non volente ha saputo dove stava perché abitavo quasi vicino comunque uno disse dice Raffaele se ti servo sappiamo dove sta Moro quindi potevamo intervenire comunque a che veniva Enzo Casillo da me mi chiamavo con bar e con bar dice hanno detto che non ci dobbiamo interessare invece i politici certi politici certi tuoi amici noi i miei amici perché non me ne sono mai fatte con i politici questo è stato quindi lei conferma questa avvocata che si mi sa piangere comunque quando io non mi ho voluto interessare e ne provo vergogna che mi sono interessato per Cirillo e per Moro no allora quindi lei conferma le precedenti dichiarazioni relativamente ai tempi sì sì è soltanto un ottimo avvocato immaginate per 16 anni stare sempre sole eccetera eccetera comunque non so se riesce ancora a parlare non lo so nemmeno ecco senta un'ultima un'ultima cosa sempre legata alle domande del dottor Rotunno e a proposito del del colloquio che lei ha avuto con Selis dico il secondo quello nel quale voi avete parlato anche delle ragioni della possibile uccisione le conferme quello che ho detto a lei prima ecco cioè voglio dire dal contenuto del colloquio con Selis anzitutto lei prospettò a Selis in questo secondo colloquio se potesse esservi una causale mafiosa o non ne avete proprio parlato con Selis no ecco quindi Selis le dette con un'utilazione io lo ripeto io domandavo agli altri ma non soltanto a Selis ma non di Melido di Napoli domandava sempre a qualcun'altro se mi avessero dentro e fu Selis che spontaneamente le disse che l'omicidio doveva essere fatto perché il doppio gioco quindi lei esce dal colloquio con Selis sapendo che era un fatto loro e non lo poteva impedire purtroppo erano fatti loro grazie altri devono intervenire prego signor Cutolo intanto chiedo alla corte la produzione dei verbali che abbiamo usato per la contestazione riacchiamo tutti e due tutti e due verbali o uno vabbè tutti e due perché sono due quello Cespi Bartaro noi abbiamo finito l'esame siamo noi che con nessuna domanda sì no scusate abbiamo riaperto il dipartimento solamente sulle domande della corte come è intervenuto lei possono intervenire tutti magari potrebbe farlo prima però mi riservo un nuovo intervento allora è così scusate abbiamo sempre fatto così sì sì ma io non mi oppongo ma che il ministro faccia domanda però siccome siccome la difesa dovrebbe avere la parola per ultima ancora l'unica cosa che ci resta in questa situazione presidente come sta dicendo lei non è mai successo che poi anche noi quando erano testi nostri certamente abbiamo sempre fatto così è finito in questo modo secondo l'ordine no scusi presidente per carità e poi va bene tanto signori tutte le cose cioè voglio dire siccome il test è nostro comunque l'esame deve essere concluso dalla difesa vabbè in ogni caso dico il problema sì sì in effetti è così però io ho ridato la parola a lei perché lei è la persona che adesso ridò la parola a tutti se lei vuole avere per ultimo la parola grazie prego è solo una questione di principio anche per sapere siccome finora con tutti no mi scusi non è mai successo cambiamo la situazione oggi su istanza dell'avvocato Taormina no per saperlo finora finora non è mai successo scusa per favore avvocato Taormina scusate lei ha fatto non è mai successo ha fatto tutte domande suggestive non mi sono neanche opposto non mi opporrò neanche a questo voglio solo sapere se da oggi si cambia regola pubblico ministero volevo dire se il pubblico ministero lo avesse chiesto di avere la parola per ultimo quando è l'abbiamo chiesto tante volte presidente pubblico ministero prego faccia pure le sue domande quindi poi dopo ci sarà non lo sappiamo decideremo sul momento va bene senta scusi non è che ci ha da decidere sul momento perché se la corte ritiene che io non possa concludere l'esame e allora io mi oppongo a che il pubblico ministero lo faccia adesso perché doveva farlo prima della difesa quindi o ci mettiamo ad accordo in questi termini insomma scusate colui che interroga la persona secondo l'ordine stabilito della legge deve avere la possibilità di fare anche nove domande per ultimo adesso questo giro è ripartito era finito ma è ripartito perché ci sono state domande della corte non ve dubbio che avrei dovuto dare subito la parola agli altri poi per ultimo a lei comunque tornerà per ultimo la parola a lei se l'avesse fatto il PM quando sentiva i suoi testi nessuno gliel'avrebbe negato colui che interroga ha diritto alla fine aveva diritto il PM ma diritto il difensore di volte io ricorderò male ma ricordo che avevo chiesto nel corso dei 400 testimoni circa sentiti dalla difesa non mi è stato concesso comunque prendo atto che da oggi si cambia regola con il testo ma non è che si cambia la regola ma è il codice è la persona colui che porta il test ha diritto di sentire il test per ultimo tre anni di udienza non è mai stato fatto prendo atto che oggi è così prego pubblico me signor Cutolo senta lei ha detto che incontrava Nicolino Sedis ogni qual volta usciva dal andava in permesso quindi vi incontrava ora a me risulta dalla documentazione che poi esibiremo la Corte che Sedis dal 29 marzo 1978 al 28 settembre 1978 era fuori dal carcere quindi ho permesso in questo lasso di tempo si colloca sicuramente l'incontro che avete avuto prima del ritrovamento del cadavere dell'onorevole Mori risulta risulterebbe diciamo perché la documentazione è quella che abbiamo dal 29 marzo 1978 al 28 settembre 1978 è fuori Sedis e io ho risposto ho dormito anche a casa sua perfetto dal 28 settembre del 1970 però io ricordo non sono chiaro ecco quello è il punto sì ma ho capito questo però per questo l'aiuto con la cosa volevo solo confermare di questo che lei incontrava Sedis quando era fuori e poi lo incontrava quando era fuori cioè quando usciva per i permetti il 28 settembre del 78 viene arrestato e da allora a noi non risulta che abbia avuto alcun permesso sarebbe allora come dico io come ho detto io prima perché non ci siamo più fissi non ho altre domande grazie produco la documentazione dal 78 lui era a noi risulta libero fuori dal 29 marzo del 78 al 28 settembre del 78 il 28 settembre rientra il carcere non ha più percorso il 78 grazie grazie a noi risulta che detenuto presso l'ospedale psichiatrico di Montelupo Fiorentino fino al 2 1279 data in cui è trasferito presso l'ospedale psichiatrico di Reggio Emilia per modificare risulta non aspetta aspetta fino all'82 è sempre detenuto a noi non risultano per favore non deve fare altre domande il PM la parte civile allora andava in permesso lo sa fuori allora le altre difese nessun'altra domanda allora le ha ricordato il pubblico ministero che dal 23 dal 29 marzo 78 al 28 settembre 78 Selis era libero io non lo ricordo io non lo ricordo però ho dormito a casa su anche delle settimane aspetta aspetta poi il 29 settembre 78 viene ricoverato arrestato e ricoverato in manicomio giudiziario chiamiamolo così quando lei parla dei permessi in occasione dei quali lei si è si è potuto incontrare con con Nicolino Selis erano permessi provenienti dal manicomio giudiziario ricorda quale il manicomio giudiziario era? con precisione no però vi ripeto mi ha potuto parlare anche tre mesi prima del fatto da Corelli ho capito ho capito ho detto già però dico lo ricordo con precisione però dico lei ricorda con precisione anche che stava fuori io non lo ricordavo con precisione però mi ricordo che ho dormito una settimana a casa sua a Roma però ricorda con precisione che quando vi siete incontrati avete parlato quelle due porte dell'omicidio per Corelli era fuori per permessi perché se risulta che è stato internato dal 29 settembre 78 fino alla data che ha ricordato il pubblico ma se che stava anche fuori non lo so non risultano i permessi concessi dagli atti che sono in questi a nostra disposizione poteva essere anche libri non lo so abbiamo parlato di questo fatto certamente quindi potevano essere permessi come potevano non essere permessi stavo fuori non potevano essere permessi che ne so succedono tante cose in Italia signor Avvocato d'accordo tra l'altro bene abbiamo finito allora riportate direttamente al luogo di provenienza lei tornerà direttamente al luogo di provenienza ritornerà direttamente oggi al luogo di provenienza per favore dunque l'altro test è citato questa mattina c'è? scusa se mi dà un momento la parola se no mi sfugge veramente questa cosa noi come dicevo poc'anzi chiudendo l'esame del signor Cutolo noi qua e il pubblico ministero ne ha dato atto puntualmente disponiamo delle date relative per quello che è il periodo che ci interessa dal 29 settembre in poi relative all'internamento del signor di Nicolino Seris non disponiamo invece dei dati relativi ai permessi che sono stati allo stesso concessi per cui noi chiediamo alla Corte di intervenire presso il DAP per far conoscere tutti i provvedimenti adottati e che hanno consentito a Nicolino Seris di uscire dall'internamento lei vorrebbe conoscere quando Seris ha avuto dei permessi se li ha avuti nel periodo dal 29 settembre 78 in poi ci può pure interessare fino possiamo dire fino alla morte di Becorelli possiamo dire anche dopo anche dopo diciamo giugno giugno questa è la richiesta su questa richiesta il pubblico ministero non si pone il pubblico ministero non si pone possiamo discorre allora la Corte dispone è a posizione delle altre scusate delle altre parti c'è opposizione da qualcuno allora la Corte dispone sulla richiesta della difesa del Dottor Vitalone e nulla opponendo il pubblico ministero che la Cancelleria richieda all'autorità competente di far conoscere per iscritto se dal 29 settembre 78 in poi l'allora detenuto Nicolino Sevis internato nell'ospedale psichiatrico di Montelupo di Montelupo Fiorentino dell'epoca si abbia avuto permessi e in caso positivo quanti e in che data bene non vorrei non vorrei magari sia stato poi trasferito da qualche altro psichiatrico o da altri casi la stessa notizia qualora il Seles si trovasse ristretto da qualche altra parte dunque per quello che riguarda il campo della polizia Masone come ha scritto a me a me come presidente della Corte ha scritto anche all'avvocato Tormina dicendo quello che poi ieri ci avevano già detto gli avvocati Biffani e Prioreschi cioè che purtroppo pur avendo dato prima la certa disponibilità per i giorni di questa settimana non è possibile che venga né oggi né domani quindi dovrete rifissarlo nella tornata di novembre ovviamente di novembre per quello che riguarda ancora i testimoni di oggi come ho detto come ho detto in data di ieri io ho ricevuto in primo in primo luogo e questo bisogna che che le parti lo sappiano le parti che ovviamente la difesa di Talone che che indica i testi ci è pervenuta ci è pervenuta la come avevo preannunciato l'elenco completo delle persone Ubino Brancaleoni Montecogli Mazzocchi e Arcolemi e ci hanno dato attraverso questa notizia il luogo dove queste persone si trovano cioè vi abbiamo già detto perché ce l'avevano detto per telefono non era ancora arrivato il fax il fax è arrivato e qui si sa dove queste persone si trovino quindi è a vostra disposizione per le eventuali Mazzocchi beh Mazzocchi l'abbiamo già sentito ieri il problema non si pone più per quello che riguarda Lauro come abbiamo detto ieri non c'è stata la possibilità di organizzare una conferenza una videoconferenza con Lauro che comunque nel pomeriggio di oggi nel pomeriggio di domani è impegnato per altra causa non siamo riusciti a conoscere a sapere comunque se questo Lauro è una persona che deve essere sentita o meno ai sensi 210 la Corte non lo sa le parti non ce l'hanno detto qualora fosse così è chiaro che noi che voi ci sarebbe la necessità di avvertire tempestivamente il difensore quindi è un problema che anche questo si porrà per la prossima tornata d'udienza infine per oggi oltre Obino che sappiamo rientra tra quel gruppo di Arcolemi Montecoli Brancaleoni Cutro l'abbiamo sentito Lauro lo dovremmo sentire era stato citato anche indicato anche Moschetti Giorgio è andata in porto la notifica di Moschetti? non abbiamo riscontro Presidente cioè voi l'avete l'avete intimata ma la risciuta di ritorno non è tornata tutt'oggi quindi non lo so questa è la raccomandata PM chiede di prendere visione della notifica si vediamo di prendere visione anche della pure della notifica per quanto riguarda il colonnello Obino si degli altri tre ieri Arcolemi Montecoli Brancaleoni avevamo visto dobbiamo vedere per Obino e per Moschetti perché Obino era per oggi gli altri tre erano per ieri quelli di ieri li abbiamo già controllati e abbiamo visto che non erano stati che non erano stati indicati cioè che erano stati che non erano stati indicati che non erano tornate le indicazioni attestanti del ricevimento della notifica Presidente qui ho soltanto la ricevuta di accettazione della raccomandata indicazione dell'invio di una raccomandata per il colonnello Obino e l'invio della raccomandata per il senatore Moschetti sono indicazioni sul vediamo un po' scusate ho scritto una lettera d'amore va bene risulta quindi che la che la 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 ha inviato due le minute delle citazioni non abbiamo non abbiamo nessuna cioè non sappiamo se sono state inviate questi raccomandati non abbiamo prova che queste persone le abbiano ricevute dice il PM non c'è prova che queste raccomandate riguardino c'è vicino la cosa c'è una minuta di quello che c'è dentro la raccomandata cioè dell'area si appunto il PM dice non abbiamo prova che queste raccomandate si riferiscano per favore sto chiedendo appunto il più volo di l'estero dice che non abbiamo la prova che la raccomandata si riferisca alla chiamata come testi di questo Giorgio Moschetti che capisco che è senatore ed è colonnello Binu in effetti noi non abbiamo però abbiamo questo diritto voi l'avete spedita l'altra è tornata indietro questa non è tornata indietro d'accordo d'accordo bene allora per questi testi voi vi riservate di chiamarli per la prossima tornata tenete presente che poi oggi pomeriggio abbiamo ancora due testi sempre della difesa di Talone che risponderà ai nomi di due avvocati Manca e i gautieri che dovrebbero arrivare oggi pomeriggio ma la prossima domanda che avete già pensato non è che è già stabilito come al solito cioè io credo che se voi a meno che voi non rinunciate a tutti i vostri testi e quindi non li sentiamo pensabile ad una qualche udienza intermedia all'interno del mese di ottobre per fare con in un giorno facciamo tutti noi abbiamo bisogno di un giorno e beh ma vorrà dire che avremo siccome la tornata inizia dal 2 di novembre perché è prima domenica lo facciamo i primissimi giorni di novembre insomma quindi rimaniamo nell'ambito ma siccome si era parlato di possibilità di fare un'udienza chiudiamo 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 che siamo che siamo per chiudere chiudiamo presto poi stabiliremo anzi insieme a voi quello che sarà il programma prossimo per la discussione va bene Presidente noi ci facciamo presente che alla prossima tornata chiederemo di prendere visione delle citazioni e ci riserviamo eventualmente la facoltà di chiedere la decadenza del diritto di assumere la prova se non avremo per quella data la prova della notifica avvenuta per queste udienze sia per quanto riguarda il test Moschetti sia per quanto riguarda il test BIN ma domanda una cosa ma perché notificare inviare la raccomandata con ricevuta di ritorno non è la notifica fatta da parte del notificante qui manca soltanto il tagliando che accerta la ricevuta della raccomandata quindi quale decadenza avvocato questo è quello che il PM si riserva di fare ma si riserva di fare diventa una provocazione noi abbiamo non abbiamo messo dentro alla busta non ci abbiamo messo la notificazione dell'arte avvocato noi diamo atto che che la difesa vitalone presenta due ricevute delle raccomandate inviate in data ma che c'entra la decadenza scusi avvocato che c'entra la decadenza in questo momento non ha eccepito nessuna ha detto si riserva di eccepire si riserva di eccepire avvocato ma una persona che si riserva di fare una cosa non ha conclusato non le cose inutili questa è una eccezione inutile che la difesa recepisce come una provocazione come se noi avessimo mandato una raccomandata senza il contenuto e come se non avessimo ottemperato i nostri doveri che sono stati quelli di notificare d'accordo avvocato comunque lei non può dire che eccepisce un qualche cosa che non ha eccepito ha detto mi riservo eventualmente di eccepire se si deve riservare si riservi per conto suo di fronte ad una situazione ma avvocato scusi la riserva ha un senso quando si è verificata il presupposto della decadenza allora uno si riserva di eccepire o non eccepirla qui si tratta di una situazione nella quale non si può dire nulla perché manca la ricevuta di ritorno punto e basta ho detto non ho attualmente la prova della notifica attualmente non ho la prova della notifica per me non è la prova della notifica se sarà integrata questa prova altrimenti se resterà con l'estate noi riceveremo è una cosa che vedrà la corte noi diamo solamente per favore diamo atto che la difesa del dottor Vitalone presenta la ricevuta della raccomandata inviata il 10 9 98 sia al colonnello Mauro Obino comandante gruppo Carabinieri sia al senatore Giorgio Moschetti perché si dà conto al verbale che si tratta dell'attestazione dell'invio della raccomandata e non della ricevuta di ritorno questa è la ricevuta che la parte di ogni persona che fa una raccomanda ha una ricevuta di aver inviato una certa questa il pubblico ministero sa come si fanno le notifiche ma io non ho capito per favore riporti questo alla difesa ne abbiamo dato l'atto di questo bene allora volevo dire questo prima di andare però dato che sono le 11.30 il PM scioglie quella riserve relativamente alle richieste che aveva fatto l'avvocato dormino o anche l'avvocato Coppi sulla rinuncia ai testi eccetera cioè è pronto a farlo o se non lo facciamo stasera abbiamo intenzione di farlo alla fine dell'udienza va bene allora lo facciamo stasera d'accordo Presidente se il pubblico ministero non credo che sono le 4 ore che ci separano dalle 3 quando riportiamo l'udienza per sapere c'è la scelta sono situazioni le quali obiettivamente determinano una difficoltà nell'andamento ulteriore del processo noi ne prendiamo altro non capisco perché non si poteva fare adesso anche perché ci possono essere problemi più quali discutere si poteva discutere bene Presidente se vuole facciamo una piccola pausa poi facciamo le nostre indicazioni come io ho chiesto al PM sarà pronto il PM mi dice io sono pronto entro oggi devo farlo come vuole il pubblico ministero per me va bene anche nel pomeriggio oppure va bene adesso dopo una pausa sì poi ecco questo mi ricorda il giudice per quello che riguarda l'avvocato 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 Barone per la difesa la Barbera io l'ho chiesto non vedo non ho visto neanche oggi l'avvocato Paccoi quindi è l'unica parte che non ci ha fatto sapere se vuole o meno si rinuncia oppure vuol sentire come è il suo diritto i testi che ha indicato lei sa nulla l'avvocato l'avvocato lo so io ha chiamato che arriverà in ritardo stamattina Presidente scusi stamattina mi ha chiamato la collega Egidi e mi ha detto che era impegnata con la Paccoi in una convalida e che sarebbero arrivate alle 11 quindi se noi discutiamo probabilmente arriverà facciamo la sospensione e poi sentiamo il pubblico ministero come vuole il PM è una giornata di oggi quindi se vuole farlo alla fine della mattina Presidente nel frattempo Calò intenderebbe rinunciare a presenziare la prosecuzione dell'udienza quindi vuole tornare no no vuole tornare via va bene può farlo d'accordo andiamo il PM volevo riepilogare quindi noi dovremmo sentire sette testi ancora cioè Masone Arcolemi Montecolli Quattro Brancaleoni Cinque Obino Sei Moschetti Sette Lauro Questi sono i testi indicati per questa terrenza che non abbiamo sentito prego Allora Presidente per quanto riguarda la prima istanza di rinuncia ai testi condizionata ci riportiamo al parere scritto che avevamo fatto e così pure per la produzione di quel documento del GIP di Roma sebbene dove è già stato scritto di riportato lo scritto a quello che abbiamo scritto per quanto riguarda invece la rinuncia a tutti i testi senza condizioni accettiamo la rinuncia quindi formalizziamo anche questo nostro assenso con l'occasione informo anche la Corte che sono in corso di deposito sono stati depositati in corso di invio l'avviso ai difensori di atti che abbiamo ricevuto dalla Procura della Repubblica di Roma relativi a indagini svolte da quella Procura nei confronti dei signori Carboni il signor Carboni e dalle quali emergono anche circostanze che riguardano il Pellicani e la signora Valbuena Valbuena una signora che è emersa nel corso di quelle indagini fatte della Procura di Roma nel corso degli accertamenti relativi all'omicidio di Calpi faccio presente peraltro che il Carboni è stato sentito anche da noi nel quadro di quegli accertamenti come indagine integrativa è stato sentito nella qualità di indagato di reato connesso ma è evidente che questa qualità è emersa proprio a seguito di quei fatti della Procura di Roma e quindi successivamente all'audizione del Carboni come teste sentito in questa audienza quindi preannunciando dando avviso dell'esistenza di questi atti depositati e per il quale abbiamo chiesto alla Procura di Roma la trasmissione di copia originale ovviamente copia delle bobine di intercettazione telefonica alla fine di poterle produrre alla Corte ci riserviamo di fare richiesta che fin d'ora anticipiamo ma che formalizzeremo al momento opportuno richiesta di audizione delle persone oggetto di deposito e ogni eventuale richiesta conseguenziale relativamente alle intercettazioni telefoniche che costituiscono il clou di questo deposito preannuncio anche il deposito di altre dichiarazioni testimoniali che abbiamo raccolto recentemente e per le quali avevamo disposto degli accertamenti investigativi a riscontro è stata nostra prassi in ossequio alla ordinanza che aveva fatto la Corte di depositare immediatamente tutte le indagini integrative l'esito di tutte le indagini integrative che abbiamo fatto nel corso del dibattimento e questo immediatamente abbiamo inteso ovviamente a conclusione dell'indagine integrativa deroghiamo in questo momento questo principio che abbiamo in cui seguito e cioè depositiamo le dichiarazioni testimoniali e la delega di indagini senza che sia ancora arrivato l'esito degli accertamenti richiesti per ragioni di urgenza e di speditezza in quanto siccome prevediamo che con la rinuncia ai testi fatta dai difensori da noi accettata ribadisco probabilmente il processo si può avviare verso una spedita conclusione non so quanto certamente più spedita di quello che poteva essere immaginabile fino a poco tempo fa abbiamo ritenuto di dover depositare queste dichiarazioni testimoniali anche se non abbiamo l'esito dei riscontri degli accertamenti richiesti in modo da poter consentire alla corte entro un brevissimo tempo possibilmente entro la tornata successiva di valutare le richieste che ci riserviamo di fare e che anticipiamo che è quella di sentire il test che ha reso queste dichiarazioni che depositiamo benissimo aggiungo ancora che sono stati depositati alle parti alcuni verbali dibattimentali tratti dal processo in corso davanti al tribunale di Palermo imputato Andreotti e che probabilmente altri ne verranno depositati nei prossimi giorni e di questi chiederemo l'acquisizione alla corte secondo quelle che saranno le valutazioni non appena le potremo leggere per quanto riguarda poi i testi dei quali avevamo chiesto l'audizione della corte e mi riferisco particolarmente alla timperia alla giunta insistiamo sul fatto che questi testi vengano sentiti nel momento in cui la corte riterrà opportuno sentirli c'è invece la testa e lo iacono la forgia che tanto per memoria era persona che doveva deporre su circostanze riferite dal San Giorgi e su questa ci riserviamo di rinunciarvi perché probabilmente sarà sufficiente la produzione del verbale di audizione della testa davanti ad altra autorità giudiziaria naturalmente sto facendo riferimento a un verbale dibattimentale quindi lascio sospeso soltanto questa testimonianza anticipando fin d'ora che probabilmente non insisteremo nell'audizione della lo iacono la forgia per le ragioni che ho detto invece fin d'ora insisto nella necessità di sentire la timperia e la giunta più tutte quelle persone che ho indicato prima per cortesia i nomi di questi due testi sui quali insiste buon universitario quali sono dunque timperi e giunta erano già indicati timperi timperi Elena è giunta Margherita in quale udienza ce l'ha segnato io ho provato non ricordo l'udienza ricordo però che si trattava di testimonianze emerse nel corso delle indagini integrative e ne avevamo chiesto l'audizione alla corte o come 507 oppure come testi emersi successivamente comunque noi comunque possiamo attraverso le ordinanze io mi ricordo che abbiamo fatto almeno un paio di ordinanze nelle quali abbiamo fatto riferimento ai verbali di udienza dove erano stati chiesti testi di riferimento quindi lo possiamo ritrovare ovviamente anche noi questa mediacono probabilmente potrà essere presentato la dichiarazione resa davanti a un'altra tutta giudizia quindi è possibile che non debba essere però Tiberi è giunta il PM 9198 di udienza per Tiberi anche invece come ho detto fin d'ora non appena la documentazione sarà completa e sarà conosciuta dalle altre parti di chiedere la citazione del Carboni delle altre persone diciamo nonché eventualmente di eventuali testi di riferimento che dovessero emergere quando la Corte deciderà di assumere la testimonianza di queste persone siccome è probabile che ci siano dei testi di riferimento ne chiederemo fin da in quel momento la cosa ecco volevo sapere dal Pubblico Ministero a me sembra che potrei sbagliarmi io un'ultima cosa per quanto riguarda mi ricordavo le memorie presentate ah intanto perché c'erano altre cose che era stato di giusto in un'automina scusami Presidente 2 ottobre 98 entrambe queste memorie presentate 2 ottobre 98 una intitolata famiglia piemontese le intercettazioni telefoniche l'altra memoria ex articolo 121 non ci opponiamo a che vengano acquisite dalla Corte aggiungo dico non vi erano altre richieste oltre queste su altri documenti cioè intendiamoci per quello che riguarda una certa documentazione c'è una memoria una diciamo una replica scritta da parte del Pubblico Ministero e a quella il Pubblico Ministero si riporta però mi sembra mi sembra che ripeto non voglio sbagliare posso sbagliarmi io ma mi sembra che l'avvocato Ormina abbia fatto anche la richiesta di altri documenti di qualche altra cosa o mi sbaglio e su questo allora dovremmo sentire il PM perché su tutto ci sono i documenti relativi a mi pare alla cena no i documenti relativi a le iniziative giudiziarie assunte da Vitalone eccetera il pacco che abbiamo mostrato abbiamo mostrato al Consiglio Ministero in documentale c'era già stato il parere negativo ah era già stato il parere negativo ma Presidente è una cortesia se la Corte ritiene di avere di occupare la prossima tornata di udienza la prossima settimana di udienza di avere già come dire lavoro per la prossima settimana di udienza con i testi che ancora devono essere sentiti alla difesa bene ci riserviamo in quel momento dopo che i difensori hanno preso visione degli atti di fare le richieste che oggi ho solo preannunciato invece la Corte ritenesse di dover come dire aumentare il numero di testi da sentire in quel momento potremmo fin d'ora chiedere l'audizione dei testi che sono oggetto dei verbali depositati oggi deve intervenire qualcuno un attimo sulle richieste sulle rinunzie finiamo tutte le difese sulle rinunzie ma sulle rinunzie le altre parti per quello che riguarda i testimoni adesso abbiamo una rinuncia completa tranne quello che dobbiamo sentire della difesa di Talone da parte di tutti i difensori l'unica e su questo il primo mistero ha accettato la rinuncia e gli altri non hanno nulla da eccepire su questa questione non sappiamo ancora della difesa alla Barbera la difesa alla Barbera se nulla ci dice ci dovrà dire cioè dobbiamo ritenere che vuol sentire i testi che ha indicato non avendo fatto una rinuncia e avendo fatto una richiesta di sentire dei testi per noi sono dei testi da sentire questo mi sembra che sia ovvio perché qualora non avesse voluto sentirli sarebbe venuto qui a dire non li voglio sentire siccome la richiesta c'è e nessuno l'ha revocata dobbiamo pensare che la difesa alla Barbera voglia sentire i propri testi quindi su questo finché la difesa alla Barbera non ci fa sapere qualcosa dovremo lasciare alcuni giorni per sentire quei testi comunque adesso è tutto sotto riserva perché Chiara che prima il pubblico del mistero dovrà presentare queste cose di cui ha appreannunciato il deposto e poi in base al deposto che sarà fatto e quindi alla visione da parte vostra di quello che sarà depositato ci potrebbero essere o non ci potrebbero essere delle richieste quindi le vedremo nel momento in cui il deposto avverrà quindi parlare adesso di quello che avverrà non lo sappiamo però sappiamo per certo che sette testi dovete sentirli voi difesa Vitaloni due testi li vuole sentire il PM erano i testi di cui ha 307 testi di cui ha 307 io vi ho chiesto 507 scusate io vi ho chiesto anche l'altra volta proprio facendo questo discorso della rinuncia rinunciando ai testi rinunciavate anche a tutti quei testi che nel corso del dibattimento sono stati richiesti come testi di riferimento o testi nuovi dei quali non potevate avere conoscenza al momento del deposto della lista e ci sono una certa serie mi sembra che quasi tutte le parti abbiano indicato i testi e noi per quelli abbiamo fatto una o due ordinanze dicendo alla fine del dibattimento la Corte vedrà si riserverà e può darsi che qualche test voglia sentirlo anche la Corte sicuramente due o tre testi voglia sentirlo anche la Corte tra quei testi indicati dalle parti detto questo intervenite pure dunque Presidente anzitutto io credo che dobbiamo stabilire diciamo qual è il momento processuale che stiamo vivendo credo che siamo ancora nel pieno della istituzione dibattimentale nel senso che per quello che riguarda la posizione nostra il testimoniale non è stato esaurito mi par di capire che da parte di qualche altro imputato è stato nominato poc'anzi la Barbera non c'è una posizione precisa per cui dobbiamo pensare che siamo ancora nella possibilità di acquisire quelle deposizioni testimoniali quindi l'istruttore dibattimentale non è chiusa se non è chiusa l'istruttore dibattimentale a parte il fatto che con questi atti integrativi e lo dico soltanto per una valutazione tecnica e non per ragione polemica andrà a finire che starete per entrare in Camera di Consiglio e arriveranno ancora dei 430 non so se tutto questo può avere un senso poi noi vedremo rispetto agli atti che ci sono stati preannunciati se si è trattato di atti dei quali mi pare che per alcuni non è così perché sono pervenuti da poco dalla Procura di Roma ma se si tratti di atti che facciano parte già delle consapevolezze del Pubblico Ministero e che non ci sono stati notificati nell'ambito dell'istruttore dibattimentale come era certamente possibile ma che pone però qualche problema per quello che riguarda lo vedremo lo vedremo ecco io voglio dire questo tutto quello che è collegato alle richieste che ha avanzato il Pubblico Ministero a parte l'informativa che ci ha dato che si poteva che non sopperisce certamente alla notificazione che ci deve essere fatta del deposito degli atti stessi tutto quello che il Pubblico Ministero ha collegato agli atti svolti ex articolo e depositati e che saranno depositati ex articolo 430 è problema che in questa sede non ci può preoccupare al termine dell'istruttore dibattimentale quando essa sarà dichiarata chiusa l'acquisizione anche delle prove di difesa vorrà dire che quella sarà la sede nella quale il Pubblico Ministero trattandosi venendo fuori gli elementi che consentono di qualificare questi come nuovi mezzi di prova ex articolo 507 la Corte ne prenderà prenderà in considerazione le richieste ma questo è un momento nel quale nessuna anticipazione nemmeno sotto il profilo della come dire della brevità dell'abbreviazione dei tempi di questo di questo dibattimento noi crediamo che in questa sede in questo momento non ci sia nulla noi non sappiamo nulla non c'è stato depositato nulla l'informativa non è sufficiente il tempo processuale non è quello giusto perché certamente solo e soltanto ex articolo 507 si potrebbe parlare di quei testimoni noi non abbiamo nessun problema dal punto di vista dei contenuti anche se non conosciamo le carte stiamo soltanto cercando di fare in modo che l'epilogo del processo si avvicini quanto prima possibile per quello che riguarda i due testimoni a parte questa lo iacono non so se sarà rinunziata o non sarà rinunziata ma a parte questa lo iacono per quello che riguarda i testimoni t'imperi e giunta se non bada errato questi sono testimoni che sono stati come dire annotati nel corso della istituzione di battito tra l'altro ricordo che la giunta dovrebbe venire a riferire di un colloquio investigativo con la signora Moretti ma a parte questo che tra l'altro quindi vorrebbe anche il problema ma ne parleremo a suo tempo ma non è un colloquio investigativo beh quello è un colloquio investigativo quello con Monticu è un colloquio investigativo io mi ricordo che ho un colloquio investigativo poi lei mi correggerà nel momento in cui ne tratteremo della questione però voglio dire si tratta di due di due testimoni dei quali di due persone delle quali anche io ricordo che ne abbiamo discusso nel corso dell'istruttore di battimentale ma è come lo stesso Presidente poc'anzi ha ricordato è qualcosa di cui ci dovremmo interessare con il 507 e dico questo perché può darsi che lo svolgimento ulteriore di dibattimento possa rendere ancor più inutile la acquisizione o comunque possa svelarsi una non ricorrenza degli estremi di cui articolo 507 sotto il profilo della novità del mezzo di prova e sotto il profilo dell'assoluta necessità e indispensabilità per la decisione della causa per cui noi con riferimento al primo problema riteniamo che la Corte debba semplicemente prendere atto e che non possa prendere alcuna decisione dal punto di vista dell'ammissibilità di testimoni e nemmeno in relazione mentre in relazione a possibili abbregazioni mentre per quanto riguarda gli altri due testimoni di cui conosciamo posizione e possibili consapevolezze processuali noi riteniamo che se ne debba ancora una volta parlare a quest'articolo non c'è dubbio è una cosa che era chiarissima lei l'ha puntualizzata ma non c'è dubbio cioè si tratta il discorso del 507 io l'ho fatto a voi e a voi i difensori e gli imputati e ovviamente all'altra parte che è la parte civile o il pubblico ministero cioè quando voi avete parlato di rinuncia io vi ho chiesto parlate anche di rinuncia eventuale ai testi che potrebbero in sede di 507 essere sentiti e voi avete la stessa cosa ovviamente il pubblico ministero ha detto solamente qualora ci fossero le condizioni del 507 noi abbiamo indicato una serie di testi di questi non intenderemmo rinuncere a due poi aspetta la corte vedere se è una richiesta questo è ovvio è solamente una richiesta è solamente una richiesta è chiaro insomma vorrei che fosse chiaro appunto ed è chiarissima la corte come risulta dall'ultima interlocuzione che non si tratta di richiesta d'ammissione di testi si tratta di un problema legato ai vostri poteri certamente un ultimo punto e tolgo l'incomodo cioè per quello che riguarda non ho capito bene siccome noi abbiamo dato la subordinata poi diventa la principale della rinunzia a tutti i testimoni è il riferimento che è stato fatto dal pubblico ministero alle parere espresso con riguardo alla rinunzia condizionata che avevamo che avevamo effettuato non so come come si concili con la conclusione rispetto alla quale oggi noi apprendiamo che c'è rinunzi c'è accettazione della rinunzia credo che anche lì sia un problema di non liquid forse ci può essere soltanto la questione relativa a quel provvedimento di proroga delle indagini se non vado se non vado errato rigetto di richieste di archiviazione che riguarda la Moretti per un procedimento pendente a Roma forse quello potrebbe essere l'unico no no su quello ha fatto un parere scritto il pubblico ministero lui si riporta quel parere scritto per quei documenti ma nel parere scritto ci sono due cose la prima è questa la seconda di Roma poi ci sono c'è la richiesta vostra di rinuncia ai testi e loro dicono accettiamo la rinuncia quello che il pubblico ministero e lo ha scritto e quindi a quello si riporta è che non siano acquisiti certi tipi di verbali perché dice il pubblico ministero non possono essere che sta un problema sullo quale ovviamente la corte deve decidere siamo chiari credo che la corte abbia soltanto da fissarci l'udienza prossima per concludere scusate per le altre parti devono intervenire su questi problemi accettano la rinuncia mi sembra che il pubblico ministero abbia fatto quattro diverse richieste cioè prima c'è un'accettazione della rinuncia dei testimoni presentata alla difesa e poi per quello che riguarda il proseguimento dell'indagine ha fatto riferimento a indagine della procura di Roma su carbone al depolto di una delega di indagine conciene anche l'acquisizione di alcune testimonianze raccolte non sappiamo di che proprio si tratti e quarto depolto di atti raccolti al dibattimento di Palermo Presidente è naturale che ogni osservazione mi scusi Avvocato Sacanelli mi scusi però se la interrompo di questo tipo di richiesta di acquistione di atti di Palermo non ne ha fatto ne ha fatto cenno anche l'Avvocato Coppi che si vuole presentare quindi è una richiesta comune non è che per ora ho detto cioè in definitiva posso rimanere sorpreso dal fatto che dopo due anni e mezzo si depositano oggi in fase finale delle ulteriori indagini fatte ai sensi dei 430 ma le devo prendere atto quello che mi interessa stabilire in definitiva d'accordo con l'Avvocato Torlina è che nessuna decisione della Corte può prendere fino a che non conosciamo tutto il materiale del quale il Pubblico Ministero fa la produzione quando l'avremo conosciuto allora formuleremo tutte le nostre quindi c'è una sorpresa ed una riserva di esprimere la propria opinione solo dopo che il Pubblico Ministero avrà tempiuto all'obbligo di metterci a conoscenza delle ulteriori indagini esprimere la rinuncia da parte della difesa Andreotti e di testi anche della difesa e viceversa insomma quindi c'è le altre parti devono rinunciare anche reciprocamente certamente c'è una rinuncia da parte della difesa Vitaloni dei propri testi c'è una rinuncia da parte della difesa Andreotti dei propri testi c'è una rinuncia della difesa Caloi dei propri testi questa rinuncia è stata proposta il Pubblico Ministero l'ha accettata e c'è anche rinuncia dei difensori a sentire i testi delle altre parti imputate quindi è chiaro questo punto qui c'è accettazione di rinuncia di tutti i testi e da parte del Pubblico Ministero e da parte degli altri difensori reciprocamente deve dire l'Avvocato Biscotti una cosa molto breve innanzitutto a nome della collega Igidi mi ha pregato di riferire che Badalamenti intenderebbe fare delle dichiarazioni spontanee io trasmetto e a un vasto torno un portafetto per quanto riguarda la difesa di Calò ovviamente ci sono reciproche accettazioni di tutte le rinunce fatte anche per quanto riguarda le altre difese soltanto sul piano formale io come difesa di Calò avevo rinunciato a tutti i testi indicati nella lista testimoniale l'altra volta rinuncio a tutti i testi richiesti con il 509 forse nella primissima fase c'era qualche richiesta di qualche carabiniero ma rinunciamo c'è però un testo chiesto con il 507 da voi già ammesso che tale Enzo Cappari si tratterà di qualche minuto voi l'avete già ammesso quindi la mia rinuncia per capire riferimento sì no esatto poi avevate chiesto e noi avevamo detto sarà no no voi avete avremmo già ammesso sì sì è vero sarà sentito con le liste testimoniali esatto avete ammesso la testimonianza ovviamente questa è una testimonianza che è al di fuori della lista depositata quindi a questo non abbiamo non ho espresso rinuncio che tenteremo ove la corte lo ritenga di infilarlo nella prossima tornata sarà roba di 5 minuti non di più va bene e non nulla sapete per quello che riguarda da Barbera sono ancora in udienza di convalida ho capito c'è l'udienza anche qui non è che tanto c'è il pomeriggio no ripeto noi ci vediamo qui al pomeriggio quindi scusate se su questo punto documenti prove eccetera abbiamo finito presidente per quello che gli guardiamo perché io non ho detto niente ancora no soltanto su niente ho bisogno di dire qualcosa voglio solo darti ragione cioè io per quello che riguarda le richieste ex articolo 507 che poi sono richieste tra virgolette perché sono vostre produzione autonome ritengo che fino all'ultimo noi si abbia la facoltà di sollevare i problemi di questo genere tutto qui perché adesso non mi oppongo a nessun tipo di rinuncia di risultati testimoniali e sono pienamente d'accordo che Capri Vincenzo vada sentito bene allora noi scusate avete chiuso su questo argomento ah sulla richiesta di Capri beh parli lei può fare o come volete volevo solo chiedere che per la prossima settimana il calendario la indicazione dei giorni nei quali vengono sentiti i testi con il congruo anticipo come abbiamo fatto sempre sapere prima quali saranno i testi e in quali giorni certo bisognerà stabilirlo infatti anche per questo volevo dirvi poi alla fine essendo sette testi cioè dato che stiamo tutendo qui cioè non ci teniamo sette giorni per sentire sette testi poter alzare che in due giorni facciamo a sentirli tutti bisognerà stabilire che in quei due giorni i testi che devono venire vengano cioè lasci in altri minuti che vengano noi avremo così impegnati due giorni invece che sette per sentire sette o otto testi insomma quelli che saranno se non c'è l'accettazione della rinuncia e dobbiamo andare avanti con tutti i testi chiaramente di la barbera non possiamo neanche scoprire la riserva non solo non possiamo per quello che riguarda i testi da loro indicati dobbiamo ritenere che li vogliono sentire no non solo ma anche gli altri perché non rinunciano quindi noi io spero che questa sera che oggi pomeriggio venga un difensore ci venga a spiegare questa cosa perché se no è chiaro che noi fino a che non abbiamo questo siamo in quella condizione o per Caffari il PM ha detto voglio solamente che la prossima settimana si stabilisca nei giorni in cui sono sentite stiamo d'accordo per quello che ci riguarda Presidente a parte così una nota d'ordine nel senso che per noi siccome sappiamo quanto dureranno le testimonianze delle persone che ci riguardano chiediamo di essere ammessi a presentarli tutti il primo giorno della prossima tornata ce la facciamo senz'altro perché dobbiamo fare domande velocissime l'unico problema è Lauro un problema tecnico ovviamente su Lauro fate voi no su Lauro abbiamo ovviamente chiesto che venisse portato qui non è stato portato qui solamente perché c'aveva quella teleconferenza quindi adesso dovremmo sapere prima cosa se Lauro è un test ai sensi del 210 oppure no se è un semplice testimone il problema è chiaramente semplificato se fosse una persona da sentire ai sensi del 210 però ho visto che voi normalmente qualche volta non è avvenuto nell'indicazione avete detto se è ex 210 oppure no spesso lo ha fatto il pulmono estera spesso l'avete fatta anche voi però non sempre così quindi bisogna accertare questo se non è se non è 210 il problema del difensore ovviamente non si pone lo faremo venire qui però se lo diciamo subito noi ci mettiamo immediatamente la domattina a scrivere fax perché il test venga lo facciamo per primo e ci liberiamo o se lo dobbiamo fare in teleconferenza lo faremo in teleconferenza quel giorno quindi voi avete levato lauro avreste sei testi che voi dite possiamo fare in un giorno esatto e per quello che riguarda lauro presidente tenuto conto del capitolo di prova e degli atti che noi conosciamo e che la colpa non può conoscere io credo che sia debba essere sentito con il 210 anzi noi facciamo indicazione espressa in questi tempi così allora ci ricordiamo seconda questione presidente nulla a questione quanto riguarda il test e capari mentre per quello che riguarda badalamenti badalamenti la corte è già intervenuta su questo problema considerando come non poteva non essere ritenuto e cioè che è un imputato contumace potrà essere anche una struttura del nostro sistema che consente questo tipo di celebrazione di processi nella situazione in cui si trova badalamenti però noi riteniamo che questo non sia un fatto che debba assolutamente pesare ulteriormente sullo svolgimento del processo richiamiamo la corte all'osservanza di quella ordinanza che per prima abbiamo tenuto in considerazione volevo dire c'è ancora cavallo in bilico dunque presidente su cavallo noi stiamo cercando di fare in questo modo lo diciamo espressamente stiamo cercando a norma dell'articolo di utilizzare l'articolo 38 e cioè di mandare una richiesta con il capitolato di risposta via fax poi la corte deciderà quello che fare noi mettiamo a disposizione questo tipo di strumento per raccogliere queste dichiarazioni ce l'avevamo dimenticare altrimenti ci vediamo va bene allora la corte per adesso non può riservarsi cioè ci riserveremo questa sera se sapremo qualche cosa dalla difesa se no ci comporteremo in conseguenza allora ci troviamo qui alle 15.30 perché mi dicono che questi due testi avvocati dovrebbero arrivare qui alle 15.30 e che arrivino alle 15.30 che voleva dire una dichiarazione spontanea ma di un minuto io non voglio interferire nel programma dei lavori che voi state disciplinando però vi voglio dire Presidente che sono quasi sei anni che io sono sotto processo sono da tre anni sospeso dallo stipendio dalle funzioni siccome non sono un ladro io devo anche provvedere con i mezzi economici di cui dispongo a sostenere la mia famiglia se vi è possibile prendere in considerazione la possibilità di chiudere entro la fine di quest'anno è il sesto Natale che io sto facendo con le carte della signora Moretti di Mancini e di quanti altri io credo che se è possibile fare uno sforzo tutti quanti noi lo stiamo facendo per la parte nella quale possiamo incidere di finire una volta per tutte questa storia poi con la vostra coscienza io vi sarei caldamente riconoscente se poteste disporre nei termini più brevi l'epilogo di questa vicenda cercheremo di farlo ma penso che per Natale sicuramente non riusciremo a farlo però faremo in modo di fissarlo il più presto possibile ormai quella che è l'istruttura dibattimentale sta per giudersi quindi un certo tempo non solamente per noi corte ma anche per voi difensori e per le parti civili del proprio ministero per ordinare le idee delle carte ci vorrà e non può essere inferiore a un paio di mesi insomma quindi al più presto fisseremo da oggi a novembre c'è un mese da novembre dicembre c'è un altro mese in cui siamo no non pensiamo di andare a intendiamoci noi ci troviamo e sono contento di questo che si possa stringere il tempo di fronte alla previsione di una ancora lunghissima quantomeno annata se avessimo dovuto sentire tutti i testi che hanno in lista che forse non avremmo fatto neanche in tempo in un anno perché avete visto quale difficoltà ha difficoltà e aveva difficoltà il pubblico ministero che è il pubblico ministero c'è un ufficio pubblico vedete quale difficoltà c'ha la difesa per chiamare ha la difesa per chiamare i testimoni quindi noi correvamo un rischio spaventoso di allungarlo invece andremo a tempi brevi però ecco da brevi a dopodomani non è possibile però non c'è non c'è faremo per Natale senz'altro no andremo subito dopo Natale e dovremo anche metterci d'accordo su quelli che saranno i tempi delle vostre discussioni la nostra intenzione sarebbe quella di fare in ritornate anche per perché è utile è ovviamente utilissimo e fondamentale è il momento della discussione dove le parti riepilugheranno alla Corte i punti fondamentali della vicenda per noi diventerebbe molto gravoso sentire tutte le requisitorie delle parti del buon ministero delle parti un giorno dopo l'altro diventerebbe un lavoro di nuovo pensato e su questo discuteremo di far parlare prima il pubblico ministero e la parte civile di fare una breve sospensione e poi di far parlare di finanziare degli imputati sperando di conoscere in linea di massima chiaramente in linea di massima i tempi senza limiti ovviamente per voi ma i tempi l'avvocato Darmina parlerà un'ora parlerà un giorno parlerà una settimana spero di no chiedo la soluzione se il pubblico chiede la soluzione non parliamo nemmeno appunto stiamo dicendo noi finora abbiamo sempre sballato tutte le previsioni quindi però cercheremo di farle in base a quello che vuoi ci dire a proposito di questo problema profittando anche della presenza del pubblico ministero noi proprio per organizzare la difesa e forse anche a vantaggio di una celerità dello svolgimento della discussione ripeto naturalmente dipenderà molto da quello che dirà la pubblica accusa e anche la privata accusa ovviamente però noi vorremmo chiedere alla corte se per parte del pubblico ministero e per parte della stessa corte ci possono essere delle difficoltà noi vorremmo abbiamo lavorato in tanti io meno degli altri i colleghi che mi sono a fianco hanno lavorato allacremente per portare avanti questo processo e quindi abbiamo anche ci siamo nel nostro lavoro spartiti di determinati temi fino al momento in cui abbiamo cominciato a lavorare allora siccome non siamo due ma siamo in più e allora io volevo conoscere volevo rappresentare che noi avremmo interesse a come dire a dividerci il compito in modo tale che però che non che non si dividerebbe soltanto tra i due difensori previsti dal codice ma naturalmente la fila le fila si ingrosserebbero allora naturalmente con il meccanismo tecnico delle sostituzioni nel senso che il giorno in cui parla il terzo non sarà presente il secondo si metterà tra il pubblico ecco voglio dire c'è opposizione a che noi possiamo organizzarci in questo modo in modo cioè che i determinati temi possano essere trattati distintamente anche da più di due avvocati questa è la richiesta che facciamo alla corte sentito il parere del pubblico ministero perché questo ci consente già di incanalare il nostro lavoro anche da subito il pubblico ministero su questa adesso stiamo parlando di adesso vedremo quando avremo capito esattamente com'è no vabbè mi sembra chiaro cioè loro sono quattro cioè sono due difensori e due sostituti potrebbe intervenire il giorno che non c'è il difensore il sostituto questo è il problema è consentito con il sistema delle sostituzioni mi sembra che non la cosa il problema non si può insomma se quel giorno parla il sostituto perché non c'è il difensore se dobbiamo avere la carità pelosa se la tengano cioè voglio dire vedremo secondo quello che è previsto vedremo noi vorremmo sapere una parola fin da oggi perché voi siete un ufficio che dovrebbe essere impersonale e unico e fatto di un solo magistrato siete in due nessuno lo impedisce noi abbiamo le nostre articolazioni se c'è un'opposizione per cui dobbiamo stare col vedremo fino all'ultimo giorno presidente e che ci si dica adesso che non verrebbe tollerata un'articolazione del nostro lavoro in questi termini è inutile dire quello che prevede la legge e comunque vedremo noi stiamo chiedendo un consenso se c'è consenso bene se non c'è lavoriamo in due non c'è problema ma scusate in cui si dice quello che prevede la legge la legge prevede che se non c'è il difensore c'è il sostituto quindi se intanto non vedo come ci si possa non è che la corte potrebbe dire no oggi non parla nessuno perché non c'è l'avvocato d'Armina non c'è l'avvocato d'Armina c'è il sostituto dell'avvocato d'Armina parlerà il sostituto dell'avvocato d'Armina l'avvocato d'Armina però quel giorno ovviamente non parlerà già vi sembra allora ci vediamo alle 15.30 ovviamente domani non c'è audienza questo è poi sta e per calore non vedo l'avvocato Biscotti non c'è? no allora l'avvocato Prioreschi pensando pure Andreotti non vedo nessuno l'avvocato Prioreschi dottor Vitaro non è presente e ci sono solamente Biffani Prioreschi e Bonsignore solamente dico se per normalmente è in quattro questa volta solamente voi tre per Carminati non ho detto solamente poi per Carminati mettiamo sempre l'avvocato Prioreschi per Badalamenti c'è gli Egidi e poi per la Barbera l'avvocato Paccoi parte civile non vedo nessuno mi ha detto l'ufficiale di Sera sembra che ci sia un solo test dei due citati cominciamo a sentirlo poi vediamo le altre cose grazie grazie consapevole della responsabilità la giuridica che sono con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza dica che si impegna il suo nome e cognome Pier Giorgio Manca nato a Roma a Cagliari 27646 residente a Roma è avvocato lei sì Bartolomea Mannati risponde alle domande dell'avvocato sì sì allora avvocato Manca le volevo chiedere lei appunto ha già detto di essere avvocato da quanto esercita la sua professione a Roma ah sì non sono mai queste marde può avvicinare il microfono rimanga pure seduto comodo e poi si avvicina il microfono sì beh comodo comodo proprio 28 anni senta lei ha avuto occasione di assistere metà degli anni 80 all'incirca tale De Pedis Enrico sì ecco lo ha assistito nel periodo nel quale il De Pedis era detenuto o anche nel periodo nel quale era la titana tutte e due periodi tutte e due periodi senta l'avvocato Gautieri sì fa parte del suo studio ancora oggi ecco anche all'epoca quindi sono 20 anche l'avvocato Gautieri assisteva insieme a lei il De Pedis oppure allora non si sapeva che la figura del sostituto processuale però in realtà mi sostituiva la poteva sostituire per alcuni anni senti il vostro studio ha avuto occasione anche di assistere sempre in quel periodo di tempo altri cosiddetti componenti della banda della Magliana in particolare mi riferisco a Moretti Fabiola e Mancini Antonio forse Mancini Antonio sì la Gautieri in prima persona io non ho mai assistito ecco e con riferimento a Mancini Antonio questa assistenza della Gautieri è intervenuta in che periodo lei lo ricorda? guardi mi ricordo che era detenuto fuori Roma e che la Gautieri ebbe modo di recarsi presso questo carcere che indicherei in maniera errata sicuramente verso Ascoli cose di questo genere però non c'è andata lei non me lo ricordo ecco è una fuori Roma certamente ecco questo io posso assicurare lei conosce il dottor Vitalone? no conosco lo ha conosciuto professionalmente? solo per motivi di lavoro ecco il dottor Vitalone si è mai recato presso il suo studio? no no ecco allora lei sostanzialmente ha già risposto a quella domanda che era mio interesse rivolgere comunque io le do lettura di alcune dichiarazioni di Moretti Fabiola comunque gli faccia prima la domanda poi sentiamo se eh certo beh ritengo che se lei ha mai avuto occasione comunque già avendo risposto negativamente sul fatto che il dottor Vitalone si sia recato presso il suo studio ma comunque io le chiedo se comunque lei ha conoscenza io sono a conoscenza se posso di incontri di incontri del dottor Vitalone con la Fabiola Moretti presso il suo studio guardi credo che il momento storico a cui ella si sta riferendo adesso e il De Pedis Enrico fosse latitante e noi non ci incontravamo mai per ragioni di sicurezza del De Pedis naturalmente presso il mio studio e ci incontravamo sempre a un bar il Bamboo Bar poi abbastanza sciocco se ci penso perché era il bar più più vicino probabilmente al mio studio professionale che sta su Piale Parioli e quando arrivava al Bamboo Bar il De Pedis mi chiamava e mi diceva dice sono quel signore con l'agenda la sto aspettando e io andavo e parlavamo quindi non ci siamo mai visti in quel periodo presso il mio studio mai proprio via Ruggero fa non ci siamo mai visti perché usava questa cautela forse abbastanza sciocca se ci pensiamo oggi però allora sembrava al De Pedis un fatto abbastanza sicuro ultimamente poi invece ci vedevamo gli ultimi due incontri alla Piazza Santiago del Cile ci eravamo spostati come bar per una questione di cautela ecco in queste sue occasioni di incontro con il De Pedis nell'ambito della sua attività professionale era presente la Moretti eravamo assolutamente soli non c'era nessuno questo lo posso tranquillamente affermare almeno io non ho visto nessuno eravamo io e lui da soli ci prendevamo un caffè parlavamo era sempre molto senta loquace ecco lei è al corrente di per averlo saputo dall'avvocato Gautieri se l'avvocato Gautieri comunque glielo ha riferito sarà un test che verrà comunque a deporre dinanzi alla corte d'assise dicevo è a conoscenza di incontri viceversa dell'avvocato Gautieri con il De Pedis presente alla Moretti guardi non solo potrei discutere questo ma non si è mai vista con De Pedis da sola ecco cioè non è che non si è vista con altre persone la Gautieri non aveva un rapporto diretto con De Pedis quindi quelle volte che si poteva vedere con De Pedis che non si è vista perché quando De Pedis era libero si vedeva con me non con la signora Gautieri con l'avvocato Gautieri si poteva vedere quando De Pedis era ristretto in carcere allora siccome io non potevo andare mandavo lei quando stava libero parlava con me insomma se no rimandavamo l'appuntamento insomma certo quindi gli eventuali incontri della signora Moretti non potevano che essere la signora Moretti non è mai entrata nel mio studio non avevo nessun motivo di vederci perché non l'ho mai difesa io la signora Moretti lei ha conoscenza viceversa di incontri dell'avvocato Gautieri con la signora Moretti io francamente questa cosa non credo di no posso escluderla io l'escluderei però non posso assicurarlo la mia domanda era correlata al fatto che il Mancini è stato assistito quello che io dicevo lei ha perfettamente centrato quello che io pensavo cioè siccome l'avvocato Gautieri ha assistito Mancini ma credo che poi Mancini in quel periodo però sono sicuro che voi conoscete cioè inserite il dato in un contesto temporale molto meglio di me io francamente non è che mi sono più occupato di questa vicenda allora non mi ricordo può darsi che mi sbagli che il Mancini stesse con la fosse compagno insomma della signora Moretti non riesco a seguire indubbiamente quelli che sono stati gli accompagnamenti della signora Moretti insomma nel tempo e nello spazio quindi però non mi ricordo se stesse con il signor Mancini in quel periodo non lo potrei affermare ecco senza me d'accordo anche perché mi interessa qua prego il pubblico ministero brevissimamente l'ha già detto questo bar o questi bar nei quali vi incontravate con il De Pedis ha detto erano nei pressi del suo studio sono tutti e due uno su Viale Parioli è un baboon bar è molto noto perché rimane aperto fino a sera tardi e giocano la schedina chiedo scusa e l'altro e sta proprio su Viale Parioli il numero non savi ricordare no avvocato semplicemente perché non conosco quella zona comunque credo che non la conosca quanto dista dal suo studio guardi il mio studio è una parallela è nella stessa zona sì e questo per chiarire è soltanto la precisazione perché le dichiarazioni alle quali per il riferimento anche l'avvocato Bissari si riferiva a accompagnamenti nei pressi del suo studio ma comunque sì beh è un'altra strada è un bar è un perfetto non ho altre domande grazie è sempre nella stessa zona sta Piazza Santiago del Cile grazie che è la piazza in cui sbocca Viale Parioli la difesa calò nessuna domanda D'Andriotti nessuna domanda Terminati nessuna domanda Badalamenti l'avvocato nessuna domanda e la Barbera uguale senta una domanda che le rivolgo solo per scrupolo avendo lei già chiarito la vicenda ma il De Pedis in questi suoi colloqui in quel periodo di tempo adesso presso il bar eccetera le ha mai parlato del dottor Vitalone? Mai non so se sono chiaro e si è verificato questo se mi consente proprio due minuti si è verificato in un momento storico in cui il De Pedis si trovava ristretto una situazione di incompatibilità nella difesa del De Pedis tra me e il De Pedis per cui io ho sollecitato il De Pedis a rivolgersi a un altro legale e il De Pedis aveva fatto una serie di legali ai quali si poteva risolvere l'avvocato Leone l'avvocato Vassalli mi ricordo e anche l'avvocato Vitalone se non ricordo questo è stato l'unico punto di contatto che è esistito tra il De Pedis non solo ma vorrei dire un'altra cosa se mi consente mi sono dovuto interessare io presso lo studio dell'avvocato Vilfredo Vitalone perché se non ricordo male posso indubbiamente sbagliarmi all'epoca il De Pedis era detenuto e era c'era se ne occupava di lui il padre e il fratello il secondo erano tre fratelli adesso mi sfugge il nome non gli ho so erano tre fratelli e il secondo Luciano potrebbe essere chiunque non me lo ricordo devo dire forse Luciano allora è Luciano sicuramente Luciano e io telefonai più volte anche in uno studio dell'avvocato Vilfredo Vitalone per sollicitargli questo incontro rappresentando il fatto che io non potevo difenderlo per questi problemi di incompatibilità che erano sorti tra me e il De Pedis poi non so come si è andato so che è stato difeso poi ma altri rapporti con il cioè non le so dire che tutti senti in che anno ricordo bella domanda questa veramente non saprei inserla dovrei controllare guardi le dico quando era latitante dunque lui era stato detenuto per un problema di tentato omicidio ecco se andate a vedere il tentato omicidio un duplice tentato omicidio nei confronti di Tigani Tigani ecco quel momento li dovreste inserirlo in quel contesto storico che mi ricordo 85-86 siete preparatissimi non me lo ricordo d'accordo grazie bene solo per chiarire due punti solamente il periodo a cui ha fatto riferimento Tigani eccetera per cui non ha potuto prendere la difesa di De Pedis è lo stesso processo in cui ci fu l'evasione di Carnovale dalle aule del Tribunale ricorda questo episodio un po' fuori dal normale l'episodio me lo ricordo quello che si arrampicò non lo so diciamo dalle aule del Tribunale questo lo si è arrampicato sì nell'aula a Occorzio questo me lo ricordo senz'altro però se non ricordo male Carnovale evase nel momento del processo Lucioli e direi dunque durante il processo Lucioli forse De Pedis era latitante no era detenuto sicuro era detenuto almeno da quello che risulta agli atti era detenuto era detenuto sì era detenuto ha ragione era detenuto senta ma solo un chiarimento sul punto per quel problema di incompatibilità che lei ha avuto con De Pedis riguardante il tentato omicidio di Tigani si è poi protratto ha cessato il suo rapporto professionale con De Pedis oppure lo ha ripreso no l'ho ripreso l'ho ripreso senz'altro l'ho ripreso ho capito senti un'ultima cosa il suo studio rispetto a Viale Regina Margherita come si colloca? dunque Viale Regina Margherita è la strada della università io non conosco Roma successivamente Viale Regina Margherita beh sono entrati gli americani a Roma per quella strada Viale Regina Margherita successivamente confluisce dopo Piazza Quadrata in una strada che si è Viale Liegi successivamente Viale Liegi finisce in Viale Parioli Viale Parioli finisce il Parco delle Rimembranze prima di arrivare il Parco delle Rimembranze sulla destra c'è una strada che congiunge con Pia Ruggero Faure una strada abbastanza nota per la bomba ho capito ma in termini di metri centinaia di metri sarebbe dal verano dal verano no io le faccio più una domanda più terra a terra 100-200 metri un chilometro due chilometri ecco un'idea è lontano cioè praticamente dal verano dal cintero parla parla persone che a Roma ci saranno andate in tutto dieci volte cioè praticamente dove finisce la strada consolare di Purtina per arrivare al centro quindi saranno che posso dire 5 chilometri 6 chilometri 8 chilometri non lo so però certamente si parla di chilometri senta nelle vicinanze del suo studio o davanti al suo studio questo non glielo so dire davanti al mio studio è difficile no c'è uno slargo una mezza piazza o un qualche cosa guarda la strada del mio studio è una strada ma io non dico proprio anche nelle vicinanze ecco allora la strada hanno fatto appunto la bomba ci hanno messo la bomba perché è una strada molto piccola molto stretta ed è la strada che si diparte praticamente dal teatro Parioni questo per comprendere che forse tutti hanno saputo per riflessione di stampa quindi parte da dove finisce via Giuseborsi che è la strada dove c'è il Parioni per cadirsi e poi arriva al Via della Moschea una strada nuova che hanno aperto prima era l'epoca era chiusa questa strada finiva praticamente nella campagna perché non aveva aperto questa strada non c'era la moschea ancora a Roma ed era un bene e questa è una strada chiusa di fronte al mio studio c'è nulla c'è il Palazzi Lancia che aveva fatto il signor Vincenzo Lancia per i suoi dipendenti per arrivare al primo slargo come viene chiamato bisogna arrivare a Piazza Santiago del Cile come dicevo poc'anzi al signor Pubblico Ministero che è una piazza piuttosto nota a Roma dove si fa il miglior gelato di Roma secondo loro va bene grazie c'è qualche intervento su questa domanda della Corte bene grazie può andare senta Avvocato mi ha detto che Gattieri è il suo collega di studio non è presente per quale motivo dunque la signora Gattieri aveva dei problemi mi ha detto di rappresentarli anzi sono in presenza se consente perché noi abbiamo un grosso problema che siamo insieme al studio quindi assentandomi io c'è bisogno lei di stare presente oggi avevamo delle cause ma poi soprattutto c'è dei problemi di carattere personale familiare oggi rimane naturalmente sempre a disposizione della Corte va bene grazie Avvocato poi per questo test Gattieri lo sentiamo la prossima tornata era a novembre Presidente lo sentiamo la prossima tornata volevo sapere dall'Avvocato bisogna chiedere a cantare bisogna chiedere a cantare no Gattieri la citazione era stata già fatta ci sono le lettere ci sono le lettere dei due avvocati che hanno ricevuto la citazione ce l'abbiamo finati quindi i due avvocati erano ricevute al momento stabilito la citazione dicevo Avvocato Paccoi lei sa non so se sappia se non sa le spiego ma lei sa tutto cioè praticamente le difese tutte le difese hanno rinunciato ai propri testi ma l'eccezione della difesa Calò che vuol sentire il test già da noi ammesso sulla circostanza riferita dal Pasino e noi non sappiamo io non non ricordo per badalamente se ci sono testi comunque sono certo invece che ci sono testi da parte del suo assistito la barbea sì c'erano testi ritualmente ammessi ma noi rinunciamo a tutti ad eccezione ma presidente io non posso essere precisa né io né l'avvocato Barone per questo motivo il nostro assistito è a Parma e da Parma viene spesso spostato quindi l'avvocato Barone mi rappresentava la difficoltà di averlo incontrato negli ultimi tempi io o altrettanto quindi noi in linea generale rinunciamo a tutti i testi ad eccezione di Francesco Marino Mannoia e Fabio Lamoretti ma ripeto se ancora mi è consentito non essere proprio precisa perché è molto probabile che sentendo il nostro cliente lui dica e manifesti la sua volontà di rinunciare a tutti ma noi non siamo in grado e Fabio Lamoretti che sono i nostri testi anche fermo restando che ove il nostro assistito concordi praticamente con i suoi difensori rinunciare a tutti i testi noi voglio sapere altra cosa accettate la rinuncia accettiamo aderiamo a tutte le rinunce di tutte le altre si aderiamo aderite anche la rinuncia anche per la collega Egidi anche in sostituzione della collega Egidi ci vorrebbe una delega per l'avvocato Egidi noi non abbiamo lui però ripeto ci sono testi di badalamenti indicati a me non ci sono testi di badalamenti testi di badalamenti no noi sappiamo solo che l'avvocato Egidi tramite l'avvocato di Scotti stamattina aveva detto che il suo assistito voleva fare le dichiarazioni se lui ci chierà di voler venire qui come dichiarazione spontanea le potrà fare sempre ma bisogna che lui dica che vuol venire qui è implicito che se vuol rendere spontanee dichiarazioni vuol venire a renderle questo credo che la collega Egidi si però è una procedura che deve attivare lui negli Stati Uniti insomma su questo problema noi abbiamo già emesso delle ordinanze abbiamo fatto delle ci sono state richieste quindi la corte ha sciottato la posizione della corte è questa cioè siamo sempre pronti a sentirlo se lui vuol venire però lui deve attivarsi e dire voglio venire in Italia a fare eccetera eccetera allora in questo caso si procederà a fare eccetera finché lo dice il suo avvocato e non ce lo dice lui beh l'avvocato ovviamente dice rappresenta quello che intenzione è fare ma veramente non è potuto venire altrimenti l'avvocato 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 americano non un uomo ma l'altro sì 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 esatto allora noi a questo punto dovremmo fissare per la tornata di novembre che va dal 2 che è lunedì fino a sabato che è 7 questi testi io vorrei pregarvi se per le parti è possibile se non è possibile è chiaro che ne prendiamo atto e quindi facciamo in modo diverso se si potesse eliminare il giorno 3 novembre perché c'è uno dei giudici popolari che il giorno 3 novembre ha un impegno diciamo difficilmente derogabile se per le parti per il ministero e difese non c'è problema facciamo due 4 5 6 7 e leviamo 3 ecco se per voi non c'è problema come ci indicate questi testimoni cioè per quello che riguarda la corte noi lauro ci attiveremo da domani per farlo venire o per fare la teleconferenza e in ogni caso per sapere qual è il difensore o nominarli ne uno in ufficio quindi noi lauro presidente diciamo per voi lauro lo avete citato noi lo abbiamo chiamato quindi ci deve pensare la corte e a mettersi in contatto su questo non c'è problema e questo sapremo e questo sapremo speriamo di sapere con un certo anticipo quando sarà possibile adesso io spero che nell'arco di quei sei giorni se ne trovi uno in cui lauro o per teleconferenza o direttamente venga a rendere la deposizione quindi a voi rimangono come dicevamo stamattina ma noi siamo in grado a presidente se il 2 è il lauro noi il 2 potremmo anche di lauro non possiamo se io adesso come adesso non saprei proprio cosa dire lauro potrebbe essere il 2 o il 4 o il 5 o il 6 o il 7 non lo so adesso non lo sappiamo domani ci attiviamo e nei prossimi giorni sapremo qualcosa Presidente noi siamo pronti a citare i nostri testi tutti in una giornata se lei consente potremmo indicarvi le date entro di qui a una decina di giorni 15 giorni anche prima anche prima si va bene nel giro i 10 giorni si è indicata le date e noi sappiamo esattamente poi l'avvocato di Scotti provvederà alla citazione se non decidiamo sulle regole e non decidiamo tutti i risultati di Viterone e finiamo tutti i risultati di Viterone e finiamo tutti i risultati di Viterone e poi sono anche le ricordate e reggiamo per una tante la voce in uno solo insomma se continuiamo a andare avanti con il Viterone non ho capito scusa come sarebbe asciugnando per fare un quadro della situazione quindi noi praticamente potremmo avere se riusciamo ad avere almeno sei di questi sette testi tutti in un giorno li facciamo poi lauro sarà il giorno che capiterà e cavallo come ha detto l'avvocato d'Armena se ritiene noi possiamo anche attivarci al fine di evitare lo rinunciamo allora noi adesso ci riserviamo per tutte le questioni di cui avete parlato e poi facciamo la nostra ordinanza Presidente c'è un'ultima richiesta che formulo alla Corte riguarda in vista proprio della deposizione testimoniale dei tre marescialli l'acquisizione delle sentenze perché abbiamo verificato che non ci sono le sentenze quindi vi chiediamo di volerne disporre l'acquisizione di modo Sì noi l'avevamo chiesto credo che l'abbiamo anche sollecitato recentemente non ci sono arrivate quindi se la Corte aggiunge la sua richiesta alla nostra tanto meglio ci associamo le sentenze riguardanti l'evasione il processo dell'unico che non ha rinunciato all'amnistia pare no? uno quelli che non hanno rinunciato immagino comunque sì d'accordo si associa comunque il piano Presidente scusate teniamo presente anche questa cosa nella tornata di novembre è chiaro che tutte le parti che non hanno rinunciato a citare i propri testi sono invitati a farlo dalla Corte immagino beh certamente adesso comunque noi nell'ordinanza diremo tutto speriamo di dire tutto quasi tutto subito lo facciamo un'ordinanza Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.